Benvenuti a tutti, ci ho tenuto a far vedere magari ritardando un attimino alla partenza questo filmato perché è la nostra storia, sono le nostre origini. Abbiamo 46 anni, questo è il X Congresso e veniamo da questi personaggi che io ovviamente in qualità di attuale presidente sono ben lontano ovviamente da quel livello. Comunque cerco di fare il mio ruolo nella maniera corretta in base alla collettività di medicina democratica attuale. Io farò l'introduzione e poi il primo intervento sarà quello di Gianni Antonioni che purtroppo è un tema di estrematorietà. La salute innanzitutto è stato il mantra dei momenti più critici della prima fase della pandemia, è stato accompagnato dall'altro mantra dell'andrà tutto bene, ancora più retorico. La pandemia costituisce un innesco ed è nel contempo l'ultima chiamata per una netta inversione di tendenza in tutti i campi sociali ed umani. Ma la salute mantra, ripetuto per far accettare il lockdown prima e le altre misure delimitative poi successivamente, ha lasciato il posto alla ricerca di un ritorno alla normalità, o meglio, a nuove e diverse preoccupazioni economiche e politiche, dimenticando le promesse di interventi sul servizio sanitario internazionale, verso la preparedness, quindi essere preparati alle nuove pandemie che arriveranno in successione e della prevenzione nel campo più generale. A quasi tre anni di distanza abbiamo di fronte, siamo dentro ormai, una tempesta perfetta, dove i nodi ambientali, sociali e politici si incontrano, unitamente dalla situazione internazionale, a determinare un futuro prossimo carico di incertezze e di pericoli collettivi ed individuali. Risulta evidente che la lezione impressa dal Covid per l'imitarcia d'Italia non è bastata a innescare un radicale ripensamento della normalità sanitaria, ambientale e sociale. Il piano nazionale di ripresa e resilienza è una pezza, nuova, su un vestito logoro. Nel caso della Lombardia, un vero e proprio irco cervo. Si realizzano case di comunità nei distretti dopo averli distrutti, impiantando il tutto in una situazione in cui la sanità pubblica è letteralmente impazzita e quella privata impazza senza redini. Che la salute venga innanzitutto concordiamo pienamente. Soprattutto deve venire prima del profitto e deve voler dire condizioni di lavoro sicuri e salubri. Non solo in riferimento alla pandemia da SARS-CoV-2, ovvero ad un rischio biologico, ma rispetto a tutti i fattori di rischio ben conosciuti e che mietano la vita di oltre 1200 lavoratori ogni anno, per limitarci all'aspetto degli infortuni. Anche nei paesi più industrializzati, in particolare in Italia, è emersa l'evidenza di non essere preparati all'evenienza pandemica, ancorché prevista e attesa. Ormai è pacifico che tale imprevidenza è strettamente correlata con lo smantellamento graduale del servizio sanitario nazionale o meglio, il principio di un servizio sanitario come bene comune, pur affermato nelle leggi nel caso dell'Italia, in realtà mai pienamente realizzato nei suoi principi cardine, universalità, gratuità e partecipazione. L'incremento del grado di privatizzazione dei servizi, basti l'esempio della disastrosa eccellenza lombarda, non sta solo aumentando i disuguaglianzi sociali di accesso alla cura, ma ha ridotto la resilienza del servizio sanitario nazionale e regionale nei confronti dell'emergenza pandemica, come la capacità di intervenire su eventi ben conosciuti come gli infortuni sul lavoro. L'incuranza nei confronti della crisi ambientale, a sua volta, produce pandemia, anzi sindemia, e peggioramento delle condizioni di salute nel medesimo tempo in cui concentra profitti in poche mani, letteralmente sulla pelle della collettività. I sempre più evidenti effetti della crisi ambientale, ormai una sorta di clessidra che non si riesce a fermare, accentuate dalle guerre, da ultimo qua dell'Ucraina, hanno causato un rinculo economico che nella finanziarizzazione dell'economia sta determinando un orizzonte di decrescita infelice e disomogenea. Non un programma di allentamento delle fonti di persone ambientali, di riconversione ecologica delle produzioni e consumi a partire da quelli maggiormente nocivi, ma semplicemente una compressione delle condizioni di vita, perfetto di alcuni aspetti varianti, importanti come quelle energetiche, che per come va evolvendosi e per come viene affrontato oggi come ieri, allontana l'indispensabile alleggerimento del peso dell'umanità industrializzata nell'intero pianeta. In questo momento si sta pensando la conversione del petrolio per produrre direttamente materie plastiche, senza passare dal cracking tradizionale, cioè nella produzione di monomere e di carburanti, e quindi produrre direttamente materie plastiche nel processo, quindi senza passare dalla parte carburante, e quindi questo viene presentato, verrà presentato come una forma di riconversione della industria petrolifera che però ovviamente non ci può soddisfare. Per non dire del peso estremamente elevato che assumeranno ed assumono le terre rare, piuttosto che il litio, piuttosto che tutti quei materiali che necessitano per l'elitrificazione che è stata proposta come futuro, diciamo così, rinnovabile o comunque a minore impatto. Occorre valutare bene tutti gli aspetti e non solo quelli che ci vengono proposti come un cambiamento quando dietro ci sono ancora delle forme di mantenimento dello sfruttamento del pianeta. Nel corso dell'emergenza Covid abbiamo poi assistito a uno scontro tra scientismo e antiscienza impressionante e dovuto anche in parte a un altro elemento non attuato dalla riforma sanitaria. L'articolo 2, tra le altre cose, diceva, tra gli obiettivi del servizio, la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità. Un contendere tra scienziati di diverso genere in cui anziché evidenziare le incertezze non ancora dissipate oggi, presentavano proposte divergenti in nome della stessa scienza non democratica, scientista, con affermazioni apodittiche che venivano smentite e corrette da poco tempo. Vasti pensare all'affermazione che la vaccinazione proteggeva dall'infezione, impediva la positivizzazione, suggerendo che poi si ci poteva gettare nella mischia senza temore di contagio, per poi doversi rimangiare tutto dopo poche settimane e ripiegare sul più plausibile e certo effetto protettivo rispetto alle conseguenze importanti, in particolare in caso di comorbidità. Contradizioni che hanno alimentato il già presente endemico movimento antiscientifico, diffondendo teorie infondate, irrigidendo convinzioni e schieramenti, mischiando ad un coacervo indistinguibile a chi sosteneva che con la vaccinazione si iniettava il 5G per essere monitorato da Bill Gates, a chi contestava specifici provvedimenti, come il Green Pass rafforzato, per poter lavorare surrogando un obbligo vaccinale che non si osava estendere a tutti senza motivazioni e senza consistenti basi giuridiche. Che dire dell'attuale situazione dove sono state azzerate anche le misure di buonsenso, quali distanziamento e protezione individuali? Non era utile da parte nostra entrare nella mischia, ma puntare sulla priorità che erano e sono la salvaguarda del servizio sanitario pubblico, unica vera difesa, se ben governato e ristrutturato, dalle prossime pandemie. Il tutto in un contesto in cui le informazioni epidemiologiche non erano disponibili o solo in parte e solo oggi necessariamente cominciano a fornire indicazioni ancora da valutare e approfondire con gli strumenti specifici. Ma veniamo a qualche più ci prima di attuale. Poche giorni fa, il 9 ottobre, sono state ricordate le vittime sul lavoro, vittime, incidenti, tragiche fatalità, sono termini che non sono sinome di infortunio, omicidio sul lavoro, violazione delle norme in materia di sicurezza. Le possono essere forvianti spingendo verso un pietismo anziché una reazione per cambiare le condizioni lavorative presenti. Ma anche il riconoscimento delle cause prime delle strade sul lavoro, che è inutile chiamare in questo modo senza chiamare le colpe i colpevoli. Dal riconoscimento delle vittime e dal vittimismo il passo è troppo spesso lieve. Il 9 ottobre è stato ancora una volta principalmente pieno, in particolare sui media, di vittimismo, di testimonianze, di persone con danni permanenti che spesso attribuiscono esclusivamente ad un proprio errore l'evento. Non è questa la verità. La normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia è essenzialmente una buona normativa, migliorabile, ma sicuramente da decenni tra le più avanzate. La sua attenzione concreta è un altro discorso. Faccio solo qualche esempio. All'atere e dentro le norme si sono cumulati nel tempo strumenti di valutazione che dovrebbero facilitare il compito dei datori di lavoro, come dei lavoratori, per individuare le fonti di rischio e le misure di prevenzione necessarie. Troppo spesso gli algoritmi di questi strumenti sostituiscono la valutazione, azzerano la dialettica nei luoghi di lavoro e limitano le azioni di vigilanza, se non le zittiscono. Non erano molti anni fa quando venne presentato un progetto di legge per il quale la certificazione di esperti dei documenti di valutazione dei rischi li rendevano pressoché inviolabili, indiscutibili anche da parte degli organi di vigilanza. Stiamo allerta che probabilmente un analogo progetto di legge verrà presentato dal Governo in arrivo. Ancora oggi, a 30 anni dalla corrispondente norma, vi sono imprese con elevati rischi connessi all'esposizione del lavoratore a rumore, per fare un esempio, che spacciano come valutazione la misurazione del rumore, quello che dovrebbe essere la base conoscitiva per affrontare il tema come se fosse l'adempimento normativo conclusivo, ovvero lo studio coi lavoratori sulle misure di miglioramento a un tempo di bonifica, come venivano chiamate, per ridurre l'esposizione. Se la capacità autonoma dei lavoratori di contestare tali abitudini patronali è ridotta per la debolezza complessiva dei rapporti e delle condizioni di lavoro, va ricordato che vi è stata un'esplicita ritirata dei servizi pubblici nell'impegno sull'intervento delle condizioni di igiene del lavoro, che ha lasciato il campo libero ad applicazioni fallaci e a pletore di consulenzi marchettari, che poi ritroviamo nei tribunali a difendere tesi innocentistiche dei responsabili delle morti dei lavoratori. Eppure, quando sento un lavoratore della GKN, come l'ho sentito, che illustra il modo in cui è stato sottoposto a critica il modello OCRA, è un metodo per la valutazione dei rischi da sovracarico biomeccanico e da movimenti ripetuti, in quel caso per la produzione che fanno, e sento proporre degli interventi per migliorare le condizioni lavorative e le modalità di produzione specifiche. Mi rendo conto che il seme che è stato seminato, come abbiamo visto nel filmato, più di 40 anni fa, e dal quale è nata Medicina Democratica, non si è perso. Oggi il Piano Nazionale Ripresa Residenza risponde ai confinanziamenti per l'acquisto di attrezzature di misurazione, e lo dico per esperienza diretta in Lombardia, per i servizi pubblici, misurazione del microclima, del rumore, eccetera, eccetera, dove però ormai non c'è più nessun tecnico, se non quelli vicini alla pensione, che sono in grado di utilizzarli. E quindi bisogna ripartire da capo per cercare di addestrare in primo luogo i tecnici per usare questi strumenti. E ancora più difficile sarà non solo utilizzare lo strumento, ma poi interpretare e utilizzare in maniera corretta i risultati per interventi corretti negli ambienti di lavoro. Il 10 ottobre è invece stata la giornata della salute mentale. In questo momento oggi iniziava un momento internazionale sul tema. È un tema su cui medicina democratica, forse perché esiste ancora psichiatria democratica, magari non si è spesa come si dovrebbe. ma sicuramente abbiamo dato e abbiamo continuato a dare degli apporti importanti, in particolare per gli aspetti lavorativi. Il quarto gruppo di nocività, sostanzialmente, quindi quelli di carattere organizzativo all'interno del quale c'è anche quell'aspetto della salute mentale dei lavoratori, correlato alle condizioni sociali di esclusione e spesso anche di genere. Iniziative e problematiche non possono essere affrontate né tantomeno alleviate o risolte con un meccanismo a bonus, come il bonus psicologico che è stato introdotto assieme al PNR, ma nell'ambito della riorganizzazione della sanità territoriale, in quanto i servizi sociosanitari, come quelli di salute mentale, devono essere, a nostro avviso, integrati nei nuovi servizi territoriali, come le case di comunità o le case della salute, per dirla meglio, con Giulio Marcacaro. C'è un'ultima data che vorrei ricordare, il 7 aprile, giornata europea contro la commercializzazione della salute, che si espose perfettamente con gli obiettivi di ripubblicizzazione della sanità e con il contrasto con la privatizzazione in ogni ambito connesso con le condizioni di salute collettive e individuali. Non a caso siamo stati tra i promotori, assieme a una vasta rete europea, dell'iniziativa dei cittadini europei per la sospensione dei brevetti sui vaccini anti-covid e i farmaci essenziali e contestualmente appoggiamo le iniziative che stanno camminando per arrivare a un'agenzia europea pubblica della ricerca. Non siamo riusciti a raggiungere il milione di firme europee per l'iniziativa sui brevetti, ma in Italia abbiamo raggiunto gli obiettivi assegnati e soprattutto abbiamo posto il tema nell'agenda degli organismi internazionali. Il degrado e la deriva del servizio sanitario nazionale spinge a rifugiarsi e a considerare la condizione individuale come l'unica concretezza per tutelare la propria salute. Chi può cerca una risposta con le proprie forze spinto anche da messaggi espliciti da tutte le parti, mutue, assicurazioni e quindi in sostanza la situazione pre-riforma del 78. Particolamente bruciante per noi è la retorica dei maggiori sindacati su welfare aziendale. In realtà nessuno si salva da solo. Si è persa la capacità di una risposta collettiva e partecipata ad una salute quale diritto delle persone. Il risultato elettorale è conseguente perché non vi era una netta differenza di proposta tra gli schieramenti. L'ultima frontiera è rappresentata dal letterale svuotamento di operatori nella sanità pubblica. Non solo dall'inadeguatezza del ricambio generazionale, medici di medicina generale, infermieri, e ci aggiungo tecnici della prevenzione, ma per la progressiva pesantezza dell'operare nel pubblico, in particolare nel pronto soccorso, rispetto a forme alternative costituite oggi dai cosiddetti gettonisti, quindi operatori sanitari a ore, spesso ex dipendenti pubblici, che vanno di ente in ente a coprire le voragini sempre più estese. Nella stessa direzione le estensioni ai servizi pubblici attribuiti alle, però più private, farmacie come pratica che si va estendendo. Ed è esplisto programma alternativo del nuovo maggioranza. Il tutto condito dall'avanzare delle ipotesi ancor più distruttive nel definire disuguaglianze anche geografiche rappresentate dalle proposte di autonomia differenziata ancora pondenti. Paradossalmente dovremmo sperare nel sovranismo della attuale maggioranza perché vengano contenute. Lo scopo di questo congresso nell'ambito della discussione e delle iniziative di medicina democratica è quello di proporre un percorso di inversione di tendenza. La pandemia ha fatto emergere i limiti della sanità occidentale in particolare italiana ed ancora più quella sbilanciata sulla privatizzazione di chi ha ridotto la medicina territoriale a partire dalle strutture dedicate Mega ASL o ATS in Lombardia Direttore generale Monarchi cancellazione dei fatti dei distretti riduzione delle attività di prevenzione. Quale direzione percorrere? Possiamo chiamarla quarta riforma o riforma della contoriforma. In tutti i casi una ripresa della preeminenza pubblica sto citando un passaggio della tesoreria dello Stato commentando negativamente l'ultima legge regionale lombarda sul sistema sanitario regionale a partire dalla programmazione sulla base epidemiologica ovvero per obiettivi di salute collettiva dalla medicina territoriale e la ridefinizione dei rapporti con gli ospedali. In breve l'attualizzazione degli obiettivi di prevenzione, cura e riabilitazione previste dalla riforma sanitaria ovvero il primo la prevenzione primaria nei luoghi di vita, di lavoro per un ambiente salubre è prioritario e il principale investimento. In questo sappiamo di non essere soli non solo perché abbiamo costituito un riferimento e abbiamo disseminato i contenuti che ci caratterizzano da 46 anni. basti pensare al manifesto la salute non è una merce la sanità non è un'azienda della primavera del 2020 che pensiamo abbia rappresentato il primo effetto prima risposta concreta organizzata non sulla pandemia ma su quello che la pandemia poteva correttamente insegnarci sono azioni che si innestano nelle attività previgenti del forum per il diritto alla salute e delle nuove emergenze come la società della cura o il congresso della salute che ora si sta articolando in assemblee della salute regionale le cose si muovono e noi siamo cerchiamo di essere all'interno di questo movimento e vorremmo in qualche modo cercare di essere la bussola coerente che indica la direzione corretta per uscire da questa situazione in modo positivo riprendendoci quelle promesse o comunque quegli obiettivi che erano nella riforma sanitaria finisco nel 2018 a chiusura del nono congresso a Napoli tra le mozioni approvate vennerà una contro tutte le guerre per la messa al bando delle armi nucleari evidenziando in quella sede che secondo il segnatempo dei bollettini dei scienziati atomici americani la distanza della guerra nucleare era di due minuti dalla mezzanotte nucleare prima dell'inversione russa dell'Ucraina questo tempo si è accorciato a 100 secondi dalla mezzanotte nucleare condividiamo in particolare per contrastare questa deriva distruttiva le proposte di costituzione della terra ultimamente riviste e riproposte da ferraioli quale unico percorso politico mondiale che possa portare fuori la specie umana da forme autodistruttive di diverso genere ambientale di disuguaglianze sociali fino al confronto militare lo diciamo in una sede più che deputata a farlo visto che Serena Regis è stato fondato da obiettori di coscienza e che il 7-10 ottobre scorso qui ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione e dall'attività e pertanto siamo nel posto giusto sotto questo profilo è ancora più giusto che il primo intervento sia di Gianni Tognoni del Tribunale Permanente dei Popoli che su questo ci ha speso letteralmente una vita e lo invito ovviamente al tavolo applausi applausi cosa vuole questo abbiamo un problema rettrico con la diretta su zoom come prove con il microfono in un momento perché ci sono un problema che venga qua che magari senti meglio possiamo fare una prova con questo microfono pronto se mi sentite proviamo a vedere buonasera a tutti grazie per questo invito non so se resterò nel tema o sono nel tema perché ne avevo preparato alcune cose poi avendo rivisto un po' questo film che è un po' l'accompagnamento della mia vita sono abbastanza vecchio per aver avuto il piacere di laurearmi con Maccaccaro e poi di lavorare con tutta la parte di Seveso un po' tutta la storia e allora mi era venuto in maniera più precisa in mente un dato che mi sembra importante soprattutto per oggi di pensare che dal mio titolo in cui si parla della guerra come distruzione della salute uno deve scegliere se uno ne prende un significato fin troppo ovvio che la guerra distrugge la salute oppure se questo accostamento della guerra come salute non è solo un accostamento in fondo molto semplice anche quello banale quanto più aumentano gli investimenti sulla guerra diretti e indiretti tanto più diminuiscono gli investimenti sulla salute ma la cosa più importante ed è quella su cui volevo mi sembra importante riflettere oggi per medicina democratica è proprio un po' il tema che è stato visto dal film in fondo semplificando ma non tanto tutta la storia del film di medicina democratica ci dice che la salute ha molto poco a che fare con la medicina molto poco perché ha a che fare semplicemente con la democrazia la storia raccontata nel film è una storia della democrazia italiana degli ultimi tanti anni che era nata come ipotesi di immaginario subito dopo una guerra che per la prima volta nella storia dopo una specie di prologo della prima guerra mondiale ma in maniera precisa aveva detto che la guerra non era più uno strumento per regolare gli poteri tra i diversi stati con i soldati e tutto ma che la guerra era uno scontro confronto di idee nel mondo e che i nemici e gli amici si vedevano dal numero di persone ammazzate al di là dei soldati la guerra mondiale era stata la prima guerra in cui le popolazioni civili erano il bersaglio delle guerre occorreva dare l'idea che la guerra era una cosa seria ed era una cosa di potere la medicina moderna nella sua maniera istituzionale in fondo nasce dopo la guerra e nasce esattamente come non tanto un problema medico non si sapeva quasi niente della medicina che è nata dopo la guerra un po' i vaccini c'erano non c'erano farmaci la penicilina stava arrivando della medicina di oggi non si sapeva niente la cardiologia aveva sia la digoxina come farmaco la medicina non c'era la OMS la Regolazione Mangiale della Sanità nasce semplicemente come uno dei modi per rendere credibile l'ipotesi reale venuta dopo la guerra che fosse possibile un mondo di diritti tra tutti la dichiarazione universale dei diritti umani è esattamente quella e la dichiarazione universale era una cosa molto simpatica molto incomprensibile dopo una guerra la sanità doveva essere il seme che faceva vedere che cosa significava un diritto universale che tutti potevano avere accesso a una società in cui i termini che vengono usati prevenzione fossero dei termini che fossero proprio parte della vita come la prevenzione durante la guerra era il tardar da mangiare a chi non ne aveva e dare una casa e dare un lavoro e questo era il compito di una medicina che aveva preso una forma in inghilterra come sistema sanitario nazionale della guerra e che diventava un'ipotesi da testare nel mondo e da allora era incominciata una grande sperimentazione di cui l'Italia è stato uno dei paesi la sperimentazione che c'è stata di tante cose la psichiatria è stata senza altro la più originale la più importante non per niente è degli stessi anni di Macacaro la istituzione negata è il messaggio più importante che dice guardate la medicina può solo far male può chiudere i diversi in ospedali psichiatrici se togliete l'istituzione la gente sta meglio se c'è qualcuno che l'accoglie nella società questo era il messaggio in fondo della psichiatria di Basaglia di Franca e di tutto e di Macacaro nel senso che Macacaro di medicina non è che si intendesse molto non gli interessava nemmeno era un microbiolo era interessato ma non perché non fosse competente quando parlava di sperimentazione penso di aver lavorato con lui praticamente circa 20 anni per cui di conoscerlo e fino a che c'era Seveso e anche Seveso la grande messaggio di Seveso era o c'è una comunicazione con la comunità se no non è che uno spieghi a Seveso e alla comunità che c'erano dei veleni che erano quelli del Vietnam occorreva dare effettivamente delle risposte allora quello che io volevo oggi discutere in questo senso era quanto oggi questa ipotesi della medicina PNRR è una dimostrazione precisa il PNRR della medicina non gli interessa nulla non c'è in nessun modo la medicina nel CNR medicina è un problema che è importante ma il PNRR della medicina ha preso praticamente semplicemente una cosa che il mondo può essere controllato da chi ha i soldi e allora se noi mettiamo dei soldi risolviamo i problemi del mondo di cui anche la medicina e tutto quello che si era detto sulla pandemia come una cosa che doveva dare un dopo perché aveva toccato la vita della persona si rivela per quello che è che è una presa in giro non c'è nessun dopo migliore del prima la pandemia ha avuto la sua espressione globale più importante al massimo nei vaccini ma non per i dibatti di vaccini vax non vax secondo me delle cose sostanzialmente dal punto di vista operativo un poco poi Agnoletto ne parlerai per tutta la parte medica importante ma dal punto di vista di profondo sostanzialmente non importanti in fondo i vaccini hanno insegnato una cosa che gli interessi e i meccanismi economici non si toccano la proprietà intellettuale e le proprietà e le patenti non si toccano la vita è una variabile che si può lasciar perdere salvo nei paesi che hanno i soldi per comprarsi i vaccini che poi questi siano più efficaci e meno efficaci che abbiamo preso la quarta dose io l'ho presa altri non l'han presa e vi dicendo è una variabile minore il problema è di sapere se la pandemia che è stata universale come rischio ha rintrodotto o meno l'idea che i diritti sono universali e la risposta che la pandemia ha data che non l'ha introdotta questa cosa anzi ha rinforzato in maniera molto importante che la medicina è uno strumento molto potente di disuguaglianza perché fa arrivare la disuguaglianza nel profondo della vita delle persone nel loro quotidiano fino a decidere la vita e la morte tutti i dati del mondo fanno vedere che la pandemia della disuguaglianza è molto più basilare di una pandemia dei virus che si sovrappone a quella della disuguaglianza come tribunale dei popoli abbiamo finito un tribunale su Bolsonaro in Brasile che sicuramente ha portato a una minaccia di genocigio alle popolazioni indigene perché le ha curate ma perché gli indigeni erano parte di un progetto brasiliano Bolsonaro militare di genocidio degli indigeni e la pandemia era qualche cosa che si prestava per accelerare questa cosa e il tribunale ha accusato Bolsonaro come presidente di una democrazia cosiddetta del Brasile perché hanno vinto le elezioni e adesso rischia di essere lì ancora a combattere con Lula per le elezioni ha accusato un presidente democratico di crimini contro l'umanità non contro il fatto di aver tolto i vaccini ma perché aveva dichiarato che c'erano delle popolazioni che erano diverse dagli altri e non potevano avere accesso ai vaccini come succede in tutto il mondo di fronte a non importa quale altra pandemia allora so che poi il tempo è molto limitato ecco che allora il problema della guerra che distrugge o è una distruzione della sanità e soprattutto il problema di una guerra che pian piano perché quello è il problema non c'è più la guerra mondiale ma la guerra è sempre più utilizzata e oggi ancora come uno strumento per dire guardate che voi umani che dovreste essere i soggetti universali della storia non contate nulla se qualcuno decide di far la guerra la decide dal potere dall'alto e si decide praticamente sulla base di quello che vi raccontano quelli che si fanno le guerre gli uni tra gli altri cioè che contano le bugie sulle guerre allora il problema di oggi è che si fa vedere che la guerra è ricomparsa perché c'è la guerra di Putin contro l'Ucraina che è certa ma è come se tutte le guerre che esistono continuamente non esistessero più cioè la guerra permanente sulla fame nel mondo e sul mercato degli alimenti che è ricomparso nell'attenzione del mondo perché non partivano le navi dall'Ucraina col frumento come se questo fosse il problema di tutto il mondo poi le prime navi col frumento sono andate in un paese molto democratico come l'Egitto di cui sappiamo qualcosa cioè la guerra è rientrata pian piano via via che la democrazia si è allontanata la guerra l'hanno travestita come la medicina o la salute era stata travestita di medicina quanto più medicine quanto più medicina c'è tanto più è salute ed era un travestimento che è passato anche perfino per la psichiatria quanto più uno può avere dei servizi tanto più potrà avere salute psichiatrica che è la cosa che meno interessava Basaglia nel senso che per Basaglia era veramente la riconquista della società da parte degli esclusi della società e questo a un certo punto si è un po' fermato nonostante tanti tentativi perché perché negli anni 90 la medicina e la guerra hanno avuto uno stesso destino la medicina è diventata la scienza delle malattie non della vita delle persone tutto quello che viene pubblicato sul global burden of desire il peso globale delle malattie è per fare i conti di quanto costano le malattie per la società le persone scompaiono ma è sempre negli anni 90 che la guerra viene travestita a sua volta di guerra umanitaria guerra per spostare la democrazia tutte le guerre che vengono provate a fare il conto delle grandi guerre l'Afghanistan tutte cose lontane ma sono tutte cose che introducono la guerra come strumento di democrazia e non il pericolo e la distruzione della democrazia e cioè della salute e se voi andate avanti e fate il conto di tante guerre che ci sono in giro nel mondo trovate che le guerre sono dove c'è già un peggioramento della salute incredibile prendete un paese come il Congo dove è stato ucciso un nostro ambasciatore e dove non si possono fare indagini su queste ma il Congo è un paese di guerra no il Congo è un paese ricchissimo di risorse in cui si possono commettere tutti i delitti più grandi senza essere puniti dal lavoro dei bambini ai minatori che vanno a contare il coltan ma perché è critico per le popolazioni per le tecnologie più avanzate che ci sono oggi per cui il problema e cerco di chiudere se no dopo non abbiate più tempo per gli altri che parlano più di cose magari più competenti del nostro tema che mi pare che il problema che si pone oggi è di essere effettivamente capaci proprio perché eventualmente si nasce da una storia di medicina che cercava di essere strumento di democrazia i farmaci di Maccacaro inizialmente quando facciavamo le prime conferenze sulla sperimentazione il problema grosso non era un problema farmacologico era un problema di come informare effettivamente le persone di essere soggetti di una sanità ricordiamoci che Maccacaro lavorava tutto in un tempo in cui il sistema sanitario nazionale ufficiale non c'era ancora lui è morto prima che questo arrivasse e si sperimentava effettivamente il fatto di poter essere i soggetti della sanità e non gli oggetti della sanità come si era al tempo delle mutue e oggi il problema è uguale oggi le persone non sono più i soggetti della sanità possono al massimo scegliere la sanità pubblica o il privato ma i soggetti della sanità non sono quelli per cui si dice che la sanità deve essere sostenibile nel senso che ci sono i soldi sufficienti per curare tutti cioè per rendere tutti oggetto di intervento e la politica di sanità poi ne parleranno evidentemente altri miei colleghi in maniera molto specifica manca a tutt'oggi di un piano che non sia un piano sostanzialmente al massimo quando va bene di amministrazione di risorse che non sono mai sostenibili perché per definizione la società ha scelto di investire in guerre che sono commerciali molto più che non le guerre guerreggiate perché in fondo il mercato delle guerre e delle armi è un problema economico che ha bisogno di guerre sparse per il mondo guerre permanenti perché sono anche lì è un modo di interpretare il concetto di prevenzione della medicina per prevenire la guerra bisogna armare sempre più tutte le popolazioni cioè spingere l'industria delle armi ed è allora il problema grosso che noi abbiamo di poter riformulare e penso che sia una delle cose più capaci di sfida della medicina democratica di formulare un progetto di medicina che sia un progetto anzitutto di democrazia che non sia un progetto di disponibilità di fondi perché quella è una partita già assolutamente persa non si può pensare di combatterla solo per la medicina è un problema di comprensione di democrazia in un paese in una società in una Europa in un mondo in cui aumentano esponenzialmente le disuguaglianze la probabilità che un settore piccolo come quello della sanità sia un modello di uguaglianza è una pura illusione e noi non possiamo illudere le persone di servire un pezzo di società se non si prende sul serio tutto il pezzo della società che è stato ricordato nel cinema iniziale che veniva ricordato anche lui ma che adesso è difficile ricostruire come un fronte unico di battaglia grazie dovremmo avere in linea Chiara Giorgi che adesso farà il suo intervento vi faccio notare i manifesti che trovate nella sala e anche un po' in giro anche all'esterno sono una parte dei manifesti di un gruppo di grafici che si chiama Art32 realizzati nel 2020 quindi in piena pandemia in cui hanno cercato di interpretare diversi aspetti della salute in termini appunto di servizio sanitario nazionale pubblico e quindi sono impegnati per un messaggio anche dal punto di vista fisico mi devo spostare di qua però vabbè adesso parla da Giorgi ricordavo perché se qualcuno non mi ha sentito che i manifesti che ci sono nella sala sono frutto del lavoro nel 2020 di un gruppo di grafici che gratuitamente ha voluto esprimere e comunque rappresentare il tema della sanità pubblica in una maniera appunto anche visiva sono manifesti che sono girati in particolare a Bergamo alzando a Lombardo in diversi posti in particolare a Lombardia ma non sono dove ci sono stati gli epicentri di diffusione di estensione della pandemia e quindi molti deceduti Chiara Giorgi ce l'abbiamo eccola qua salve mi sentite grazie perfetto innanzitutto grazie tantissimo di questo invito mi fa davvero enorme piacere grazie soprattutto tutta Medicina Democratica e Marco Caldiroli in particolare allora nonostante le nostre come giustamente ricordava Gianni Tognoni e anche la nostra disillusione attuale la pandemia ha però riportato sicuramente al centro dell'attenzione il diritto alla salute fisica e psichica individuale e collettiva e soprattutto la necessità di un rinnevamento del welfare socio-sanitario io credo che per comprendere le sfide attuali sia necessaria una riflessione storica che sia anche capace di individuare le principali problematiche che negli ultimi anni hanno contrassegnato il nostro assetto sanitario allora innanzitutto nella vicenda del covid hanno pesato le conseguenze come è stato ricordato anche prima di politiche di privatizzazione e mercificazione della sanità e del welfare che sono state effettuate negli ultimi almeno 30 anni e in secondo ordine la pandemia ci spinge a mio parere a tornare anche alle origini storiche e alle ragioni politiche e sociali dello strumento che è stato maggiormente investito dall'emergenza il servizio sanitario nazionale il quale nei suoi caratteri almeno originari ha costituito e potrebbe ancora costituire un mezzo fondamentale a disposizione della collettività per la promozione e la tutela della salute i limiti che si sono dimostrati negli ultimi anni e nell'emergenza sono derivati soprattutto dal suo depotenziamento dallo spazio lasciato alla sanità privata dall'indebolimento della medicina territoriale che invece aveva informiato la fisionomia del servizio sanitario nazionale se noi prendiamo i dati pre-pandemia questi fotografavano l'entità e fotografano l'entità della riduzione delle risorse pubbliche grave soprattutto in un paese come il nostro ad alto invecchiamento della popolazione e un decisivo disinvestimento dalla sanità pubblica che si è palesato soprattutto in termini di riduzione del personale più di 40.000 dipendenti a tempo indeterminato di divario nella qualità e quantità dei servizi forniti dalle regioni difficoltà di accesso vedi le lunghe liste di attesa accesso alle cure insufficiente compensazione del ridimensionamento dei servizi ospedalieri ordinari con un rafforzamento di quelli territoriali con l'effetto di uno spostamento della domanda verso il mercato privato che sicuramente rappresenta il fattore di ulteriori disuguaglianze sociali territoriali e di altra natura che mette gravemente in discussione l'universalismo d'altra parte l'emergenza sanitaria ha contribuito a rendere evidenti oltre i problemi che dicevo anche quelli relativi alle difficoltà nell'offerta dei servizi ospedalieri alla scarsità di alcune figure nell'ambito del personale sanitario pensiamo soltanto per dirne una agli infermieri e alla mancata attenzione alla prevenzione nonché anche a uno scarso impegno pubblico nella ricerca tutto questo a mio parere è l'effetto delle politiche che sono state introdotte dopo la crisi del 2007-2008 ma ancor prima è l'effetto della più complessiva cosiddetta contro-rivoluzione neoliberista che si è affermata dagli anni 80-90 del novecento quando effettivamente la riorganizzazione del capitalismo in chiave neoliberale ha preso la strada di una riduzione dell'intervento pubblico destinato a garantire i diritti sociali e di una crescente privatizzazione dei servizi del welfare il ridimensionamento della sanità pubblica io credo che vada analizzato nel contesto di questi processi che peraltro hanno avuto anche alle spalle una pesantissima revisione politica e ideologica del ruolo dello stato sociale e la costruzione di un senso comune funzionale alla distruzione di ogni forma di solidarietà sociale ma anche l'entrata delle logiche di mercato e profitto nelle attività di cura istruzione salute ambiente ricerca e via dicendo ora credo che ricollegandomi a quello che diceva Gianni Tognoni la domanda da cui partire potrebbe essere così formulata quando e perché la politica ha assunto la promozione e la tutela della salute degli esseri umiani come obiettivo centrale della sua azione a mio parere il riferimento è sicuramente agli anni della guerra per l'appunto al beverage report del 42 e poi all'attuazione del servizio sanitario britannico del 48 e anche il riferimento è all'organizzazione mondiale della sanità del 46 quando nacque la cui definizione di salute effettivamente continua ad avere una grande importanza la salute come stato di complesso scusate di completo benessere fisico psichico e sociale e non puramente come assenza di malattia ecco la formulazione di un diritto alla salute in questa dimensione questa multidimensionalità nacque effettivamente dai stanze di profondo cambiamento politico sociale culturale e si intrecciò come ricordava Gianni alle questioni legate a un nuovo ordine internazionale fondato sulla pace e sulla centralità degli strumenti redistributivi dello stato sociale il percorso italiano fu molto accidentato effettivamente perché la centralità di un intervento pubblico al fine di garantire le condizioni essenziali di una vita in buona salute emerse non a caso proprio durante la resistenza e poi durante l'assemblea costituente ma ci sono voluti 30 anni perché si arrivasse poi all'istituzione dell'SSN di grande rilievo e credo che abbia ancora una grandissima attualità lo abbiamo visto sotto il covid è la formulazione il dettato dell'articolo 32 della costituzione il quale ha messo insieme mette insieme pretese sia positive attribuendo a tutti il diritto di pretendere dalla Repubblica beni e servizi essenziali alla tutela della salute ma anche pretese negative dell'individuo rispetto a comportamenti illessivi per la sua integrità psicofisica ossia rispetto a trattamenti sanitari non considerati obbligatori nell'interesse della collettività sempre lo stringente legame tra interesse del singolo e interesse della collettività ora sappiamo ripeto che nonostante queste avanzate elaborazioni l'Italia mantenne in piedi di fatto un assetto mutualistico ereditato dal regime fascista sino al settantotto ma chiaro sappiamo anche che durante gli anni sessanta il dibattito alla salute si aprì a nuovi orizzonti e il percorso colminò in questa nuova istituzione inventata del servizio sanitario nazionale e quella riforma fu il coronamento di una sinergia di forze elaborazioni iniziative alleanze in parte nuove e non a caso nella sua ideazione furono coinvolti moltissimi attori sociali e politici più ambiti di ricerca collettive nuovi saperi forme originali di lotta di sperimentazione istituzionale si diedero cioè nell'ambito della salute e della sanità in Italia negli anni soprattutto settanta sperimentazioni di grandissima qualità informate da modelli di autogestione di auto-organizzazione e la riconduzione della salute a fatto sociale e politico si diceva sociale nella genesi e politico nella sua risoluzione ma anche la centralità del momento preventivo dell'intervento sanitario che doveva essere un intervento continuo globale e integrato era al centro dell'attenzione chiaramente un ruolo decisivo assunsero alcune forze politiche sindacali ma soprattutto i movimenti alcuni movimenti ricordo il movimento femminista quello studentesco ovviamente il movimento operaio il movimento di lotta per la salute il movimento della psichiatria cosiddetta radicale fu un percorso molto ampio che metteva in campo una visione unitaria della salute legata alla comunità e al territorio una concezione politica dell'ambito medico e sanitario una consapevolezza forte sulle responsabilità del capitalismo ad esempio rispetto alle cause sociali delle malattie ecco e maturò la convinzione che il diritto alla salute dovesse comportare scelte politiche in cui tutta la popolazione dovesse essere attivamente coinvolta scelte culturali istituzionali che soprattutto dovevano modificare nel profondo gli strumenti della democrazia i presidi e gli strumenti della democrazia mi limito a ricordare tra questa esperienza quella delle inchieste della salute in fabbrica nei luoghi di lavoro diciamo tutta l'attività di oddone di marre di molti altri che appunto promuovevano il diritto dei lavoratori all'integrità psicofisica famoso slogan la salute non si vende e costruivano anche un linguaggio nuovo in grado di connettere il protagonismo e le conoscenze operaie sulle condizioni di lavoro con quello della comunità scientifica medica bandendo la delega agli esperti in più in generale la vicenda della sanità fu rappresentativa a mio parere di profonde trasformazioni che in quella stagione storica tanto vituperata cioè gli anni settanta da mass media e anche da tutta una serie di mainstream e di racconti di rappresentazioni che girano da anni in realtà fu il momento di maggiore innovazione di maggiore riforme nella storia nella storia italiana riforme e innovazioni e trasformazioni cambiamenti che investirono tutta l'organizzazione della società i rapporti tra i cittadini i bisogni le istituzioni i servizi collettivi e in più ambiti del welfare non a caso si diedero una serie di sperimentazione di grandissimo rilievo che mettevano in crisi i modelli burocratici familiisti corporativi tradizionali e quindi si diede una grandissima vivacità proprio perché quel cambiamento coinvolgeva tutti i rapporti sociali di produzione e riproduzione tutto l'assetto istituzionale e i nodi della cittadinanza appunto democratica ovviamente non lo dico qui ma grandissimo rilievo ha avuto la nascita di medicina democratica la figura di Giulio Maccacaro come ovviamente sappiamo tutti l'elemento importante che quelle appunto quelle rivendicazioni che insomma del movimento per la salute hanno secondo me un'attualità ancora oggi penso al fatto che mirarono a non separare il campo sanitario da quello sociale perseguirono un cambiamento radicale della formazione del personale sanitario misero al primo piano la prevenzione la medicina di base e di comunità e si trattava di lotte di riappropriazione della salute di forme di democrazia diretta nell'ambito socio-sanitario che combattevano la subordinazione della salute alle logiche del profitto oltre che la ospedalizzazione la salute come ambito di vita e di cura delle persone di una cura che assumeva il significato dell'avere cura opposto alla medicalizzazione terapeutica della società diventava il terreno di una serie di mobilitazioni di una politica delle alleanze e di conflitti diventava il terreno di una nuova cultura dei servizi pubblici che era sempre stata assente in Italia i protagonisti furono molto numerosi e appunto vennero da più esperienze anche sparse sul territorio quando si arriva finalmente alla riforma nel 78 allora vorrei solo ricordare le linee generali di quella riforma ricordo il fatto che fosse connotata da un'impostazione integrata dell'intervento sanitario e di quello sociale dalla centralità del momento preventivo dall'approccio epidemiologico così assente durante tutti questi due anni di pandemia da un'organizzazione territoriale decentrata da una impostazione capace di investire le questioni legate alle condizioni di lavoro e alla tutela dell'ambiente dall'avvio di una gestione partecipata da un nuovo rapporto tra il medico e il paziente e tra l'operatore sanitario e l'essere umano quindi i suoi principi ispiratori furono universalità globalità delle cure omogeneità dei servizi e della copertura equità di accesso programmazione in collegamento con i piani anche economici e territoriali legati all'assistenza sociale garanzia di un diritto alla salute uniforme su tutto il territorio nazionale finanziamento tramite la fiscalità generale e partecipazione democratica alla determinazione e gestione dei servizi sociosanitari ora se questa vicenda è leggibile riannodando questo lungo filo rosso di quel momento storico è bene anche però ricordare che in Italia si giunse a questa riforma espansiva quando a livello internazionale proprio l'ambito della sanità diventava il bersaglio di politiche di contenimento della spesa pubblica e della spesa sociale nel suo complesso infatti a partire dagli anni ottanta vennero a mutare le condizioni economico politiche e sociali che avevano visto la realizzazione di quelle e di altre importanti riforme degli anni settanta e il cammino per proseguire anche nella riscrittura universalistica dello stato sociale finì sempre più per ridursi possiamo dire che alla capacità di introdurre grandi cambiamenti si sostituì una politica improntata a interventi limitati settoriali i vincoli di spesa divennero sempre più stringenti tornarono a prevalere logiche particolaristiche e nel campo delle politiche sanitarie pubbliche subito la riforma incontrò moltissimi ostacoli ma anche un nuovo contesto ovviamente internazionale possiamo dire che l'impianto integrato alla salute fu soppiantato dal prevalere di modelli di mercato la centralità dell'azione politica in ambito sanitario fu sostituita da una individualizzazione delle risposte fornite la valorizzazione della prevenzione e l'attenzione ai cosiddetti determinanti sociali culturali ambientali della salute fu superata da un paradigma selettivo e biomedico della salute incentrato su un approccio individuale ovviamente non più alla salute ma alla malattia si avviò anche un processo di depoliticizzazione dell'assistenza sanitaria e in questo contesto prese avvio le controriforme dell'assetto sanitario della sanità in particolare ricordo la controriforma del ministro della sanità Francesco De Lorenzo del 1992 sappiamo tutti e tutte quali sono le sue impronte le sue linee le ricordo in tre parole aziendalizzazione regionalizzazione del servizio privatizzazione del sistema anche in linea con quanto nel frattempo aveva fatto e stava facendo aveva già fatto da un po' nel 79 Margaret Thatcher con la sua le sue controriforma della sanità ecco il direi che fu soprattutto la regionalizzazione del sistema l'aziendalizzazione della sua gestione ma anche il nuovo contesto di restrizione finanziaria a introdurre cambiamenti rilevanti rispetto al servizio sanitario ideato negli anni 70 nel corso degli anni 90 in un contesto in cui i livelli di assistenza passavano da diritti a obiettivi in funzione però delle disponibilità finanziarie e in subordine al primato dei vincoli in bilancio i rapporti tra Stato regioni aziende si fecero sempre più problematici i servizi sanitari si accentuarono i problemi legati alla dissociazione tra le politiche nazionali e le politiche regionali peraltro le regioni persero sempre più la propria capacità propulsiva che avevano avuto durante gli anni 70 e i comuni videro sempre più ridursi il proprio ruolo sotto la pressione di un neocentralismo regionale e di un'autonomia delle aziende sanitarie di grandi dimensioni e sempre meno questo fu tutto un mutato contesto internazionale che andò verso questa direzione cioè la riorganizzazione del capitalismo in chiave neoliberale volta a espandere la finanza a ridurre l'intervento sociale dello Stato a riconfigurare quest'ultimo rispetto al mercato con l'avvio di ampi processi di privatizzazione ovviamente emerse un ruolo sempre maggiore dell'attività privata e dei soggetti di mercato lontanissimi anzi opposti al modello al paradigma universale universalista e pubblico precedente da quel momento attività come le cure sanitarie l'assistenza ai più fragili vennero sempre più fornite nella forma di beni comprati sul mercato quello che accade oggi anziché diritti garantiti da un welfare state in questo quadro l'ambito sanitario rappresentò e rappresenta un campo privilegiato di applicazione di nuove politiche di welfare adottate da più governi occidentali e orientate al suo ridimensionamento alla sua cosiddetta ricalibratura si appunto privatizzazione dei servizi processi di outsourcing dei servizi pubblici promozione di temi assicurativi sostitutivi e ovviamente logiche di mercato sempre più protagoniste nelle attività di cura salute e assistenza possiamo dire in poche parole poi mi avvia le conclusioni che si basò dall'obiettivo di assicurare a fasce sempre più ampie di popolazione l'accesso ai servizi sanitari a quello del controllo dell'eccesso dei consumi sociali e della spesa sociale pubblica si imposero appunto rigide politiche di bilancio e tutto questo condizionò i paesi in termini di aumento esponenziale delle disuguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria di riduzione della spesa e di crescita delle forme cosiddette di compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni la spesa out of pocket e anche di perdita della capacità di programmazione dei servizi socio-sanitari tra l'altro le politiche lo sappiamo dell'organizzazione mondiale della sanità hanno sempre più subito numerosi contraccolpi il ruolo dell'OMS è stato ridimensionato sono entrati in campo protagonisti come la Banca Mondiale il Fondo Monetario Internazionale l'Organizzazione Mondiale del Commercio nell'ambito della sanità è venuto via via meno il paradigma di Alma-Ata e la Comprehensive Primary Health Care e in tutto questo c'è stato un forte sempre più protagonismo dei partenariati globali pubblico privato soprattutto nell'ambito dei farmaci e dei vaccini con le loro logiche di profitto ecco in tutto questo mi avvio alle conclusioni la pandemia e il dibattito attuale a mio parere suggeriscono la necessità di un servizio sanitario pubblico universale e ugualitario frutto di un impegno politico volto a promuovere la salute un impegno diretto a formulare un progetto politico che rimetta la salute al centro del cambiamento sociale e credo che la sfida sia quella di reimmaginare un nuovo modello di welfare socio-sanitario espansivo espressione di una gestione partecipata democratica comuna capace anche di ripoliticizzare il terreno della produzione di salute e della conoscenza sanitaria credo che rimettere la centralità rimettere al centro scusate cioè ritornare su un approccio centrale volto a considerare la salute e la cura prima di tutto un fatto politico significa innanzitutto superare i limiti di una delega agli esperti ma significa anche che la salute è oggetto primario delle politiche sanitarie pubbliche e non della medicina clinica e diagnostico-terapeutica che la considera come mera assenza di malattia e come problema solo individuale e questo però comporta anche riaffermare la priorità di un intervento incentrato sui determinanti sociali ambientali culturali della salute quindi lotta più totale alle disuguaglianze questo significa che la tenuta ma anche la riqualificazione e il potenziamento di un servizio sanitario pubblico dipendono dalle scelte politiche e valoriali che si faranno a livello nazionale internazionale europeo naturalmente da una programmazione nazionale dei servizi dal rifinanziamento della spesa sanitaria e sociale ma anche da una spinta culturale e politica credo che a mio parere il terreno della salute possa essere ancora un terreno per conflitti e per una politica inedita di alleanze in questo per mobilitazioni che su questo terreno cruciale possono ancora esserci e credo per diciamo dirlo molto rapidamente che alcuni concetti che possono essere messi al centro per un futuro prossimo sono riqualificazione del servizio sanitario pubblico ripensamento del modello di sanità pubblica sulla base di un riconoscimento di un'individuazione di una soddisfazione dei bisogni fondamentali e multidimensionali individuali e collettivi creazione di una forte infrastruttura di servizi sociosanitari all'insegna dell'universalismo e della democrazia centralità di una concezione della salute non capitalizzata ma socializzata responsabilità pubblica rilancio della medicina territoriale dei servizi di base ripensamento della formazione universitaria riforma dell'inquadramento contrattuale quindi rimozione dei vincoli che limitano la conferma stabile abolizione del tetto di spesa sul sersonale intendo rilancio della programmazione e della integrazione con i servizi sociali ripresa dell'attività ordinaria altrimenti si avvantaggia il privato rilancio della prevenzione e di un approccio attento ai determinanti sociali ambientali e culturali contrasto ovviamente al modello sanitario lombardo superamento di una logica prestazionale e necessità di una visione organica capace di ripensare la sanità in base ai bisogni di comunità ai risultati di salute agli obiettivi dell'uguaglianza e quindi io credo che vada rimessa al centro il diritto alla salute la tutela della salute al centro di una politica del cambiamento come un diritto fondamentale ma anche con una forma essenziale di giustizia sociale e di liberazione umana io credo che la posta in gioco è il futuro del servizio sanitario nazionale ma più in generale del welfare socio sanitario del welfare e che quindi proprio questo che come dire rimettere al centro al centro della politica e del cambiamento sociale il benessere delle persone i loro bisogni in termini di salute ma anche di assistenza previdenza istruzione abitazione tutela del reddito e vi ringrazio davvero moltissimo scusate la rapidità per dare la parola a Ivan Cavicchi vi segnalo che il prossimo numero di medicina democratica che purtroppo è arrivato in stampa oggi nel senso sono disponibili oggi i numeri e non siamo riusciti a portarlo fisicamente verrà comunque inviato a tutti coloro i quali oggi hanno stato registrati ovviamente parlo dei non soci perché i soci ce lo riceveranno per diritto acquisito diciamo così questo è un numero dedicato ai temi salute e piano nazionale ripresa e resilienza e in questo del tutto immodestamente spero senza prendermi i fulmi negli autori ci sarà un mio articolo gli occhiali no ci sarà un mio articolo sicuramente modesto in cui metto assieme cerco di far parlare tra di loro tre testi uno di Chiara Giorgi dal suo libro sulla storia dello stato sociale in particolare per la parte relativa appunto alla sanità uno di Sartor per quanto concerne il processo di privatizzazione in regione Lombardia e uno appunto di Cavicchi sulla diciamo sinistra e sanità su cui dobbiamo qualcuno dovrebbe fare autocritica come lui giustamente dice noi siamo vorremmo essere lo spirito critico per dare una mossa nel prossimo futuro vieni qua che così ti vedono bene grazie Marco grazie per avermi invitato è la prima volta che partecipo direttamente in un congresso di medicina democratica anche se ovviamente medicina democratica la conosco da tanti anni ecco allora io ho pensato di fare così oggi di non fare un grande discorso ma di proporvi semplicemente delle tesi da discutere sulle quali riflettere siamo in un congresso e in un congresso si discutono le tesi vorrei però partire da un dato di realtà avrete letto anche voi sui giornali che ufficialmente siamo in recessione mi ha colpito molto la la definizione siamo in recessione tecnica hanno detto la vera recessione comincerà tra un po' dicono quelli dell'Europa la recessione è una brutta bestia e in recessione in genere i diritti patiscono e patiscono molto quello della salute quando ha a che fare con delle difficoltà economiche patisce è un diritto che patisce più degli altri e allora mi è venuta in mente una mia esperienza giovanile io ho cominciato sono entrati in sanità pubblica ho 18 anni quindi grosso modo sono nato professionalmente insieme alla riforma sanitaria del 78 e mi ricordo che la riforma sanitaria del 78 è nata certamente da grandi lotte di emancipazione questa è la parola alla quale tengo di più perché il vero connotato della cultura della sinistra è che la salute non è mai stata ridotta a un problema tecnico ma è sempre stata vista come un mezzo di emancipazione tu non fai salute se non ti emancipi tu non fai salute se mantieni le disuguaglianze tu non fai salute tra virgolette se in qualche modo espropri no? il cittadino da queste cose allora oltre a questo oltre alla grande esperienza delle lotte operaie che poi sono entrate giustamente nella riforma sanitaria scusate se lo ricordo ma se non ci fossero state quelle lotte operaie sulla salute in fabbrica probabilmente non ci sarebbe stato il capitolo che poi c'è stato sulla prevenzione eccetera eccetera nella riforma sanitaria ecco oltre a questo c'è stato un altro protagonista della riforma sanitaria ed è stato il default finanziario del sistema motoristico se non avessimo avuto il crollo del sistema motoristico probabilmente avremmo dovuto fare un'altra riforma o avremmo pensato di fare un'altra cosa allora quando penso che la cosa più potente che fa saltare i sistemi che fa saltare i diritti eccetera eccetera sono le contraddizioni finanziarie voi capite che quando mi informano che c'è la recessione tecnica mi preoccupo molto 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 ma mi preoccupo ancora di più perché se metto la recessione economica insieme tra virgolette all'emergenza ambientale insieme alla guerra insieme a tutte queste insieme scusate non è stato ancora citato ma voglio rompere il ghiaccio insieme ad un governo di centrodestra il governo di centrodestra adesso vedremo cosa farà ma di certo non ha il know-how che ha avuto il centro-sinistra sulla sanità la sinistra è stata dietro a tutte queste grandi conquiste la 180 la 194 la 402 cioè voglio dire nella cultura della sinistra il concetto di emancipazione ha fatto in modo tale che la sinistra è stata una coprotagonista anche di tante conquiste riformatrici questo questo governo non ce l'ha e non lo voglio giudicare perché ancora non lo so cosa farà però mi preoccupa perché io so per esperienza che ci occupiamo di robe complesse di robe che fanno tremare le vene ai polsi di robe sulle quali si fa presto a mettere dei tagli lineari come fu fatto qualche anno fa si fa presto a imporre tra virgolette gli obblighi di perimento nel bilancio quindi io credo che viviamo in un contesto molto difficile molto complesso e soprattutto è reso più complesso questa è la prima tesi che io vi propongo per una ragione in più che il diritto alla salute non arriva a questi appuntamenti in salute ma arriva molto maltrattato noi non abbiamo il diritto alla salute che abbiamo scritto nell'articolo 32 oggi io sono convinto non ho tempo di dimostrare i particolari che oggi il diritto alla salute dell'articolo 32 ha perduto nel tempo il carattere e la sua natura di diritto fondamentale oggi il diritto alla salute non è più un diritto fondamentale mi dispiace darvi questa brutta notizia ma è così perché nel momento in cui tu fai le aziende e l'azienda vuol dire semplicemente che il diritto alla salute deve essere compatibile con le risorse il diritto alla salute non è più un diritto assoluto diventa un diritto relativo quando tu invochi la privatizzazione di cui parlava la Giorgi per garantire sostenibilità al sistema tu hai fatto fuori il diritto alla salute allora io vorrei e sono davvero contento di farvi questo discorso qui a casa di medicina democratica che il diritto alla salute tornasse ad essere un diritto fondamentale poi ovviamente so da me che non basta dire che deve tornare ad essere il diritto fondamentale bisogna capire come cosa vuol dire essere fondamentali oggi con una guerra con la recessione con un centro-destra con questo e con questo altro perché è chiaro che i conti con l'economia li dobbiamo fare la mia tesi è proprio questa il diritto alla salute nasce 70 anni fa nella Costituzione mi ha sempre colpito questo dettaglio per 30 anni è stato come ibernato dopo dopo 30 anni abbiamo fatto la riforma sanitaria nel 78 ed è si è dischiuso da allora ad oggi questo diritto alla salute a me mi viene in mente di paragonarlo come alle palline dentro il flipper ne ha prese di tutti i colori è stato malmenato in tutti i modi è stato ridimensionato in tutti i modi al punto tale che oggi mi sento di dire con grandissima convinzione che non è più un diritto fondamentale e questo mi preoccupa perché io già propongo una prima tesi se è vero che il diritto alla salute non è più un diritto fondamentale io credo che l'obiettivo di medicina democratica del nostro forum per il diritto alla salute parlo dei compagni di Roma eccetera sia quello di restituire la natura fondamentale di un diritto badate bene che quando io parlo di natura fondamentale intendo una cosa banalissima se è fondamentale il diritto non è negoziabile chiaro? nel momento in cui negozio il diritto con le aziende non è più fondamentale dobbiamo metterci d'accordo possiamo anche dire accettare che non è più fondamentale dobbiamo sapere le conseguenze di questa cosa e mi riferisco a tutto un periodo a cui accennava anche la Giorgi sul neoliberismo negli anni 90 eccetera dove era normale era addirittura moderno era alla moda rinegoziare i diritti no? i diritti erano un intralcio dietro a tante a tante misure a tutta la a tutta la faccenda della privatizzazione della sanità c'è un discorso che è stato addirittura fatto dalla Corte Costituzionale signori la Corte Costituzionale prima di fare le aziende si era inventato il principio di contemperazione di bilanciamento cioè bisognava bilanciare perché a un certo punto si aveva la sensazione che dopo il grande boom economico i diritti frenassero la crescita economica quindi bisognava quasi restringerli ma vi rendete conto? allora io penso che questa tesi bisogna meditarla io penso che oggi il diritto alla salute non è più un diritto fondamentale credo che ce lo possiamo porre questo problema perché il nostro obiettivo deve essere quello di tornare a fare in modo che sia un diritto fondamentale che bisogna fare seconda tesi beh proprio perché parliamo di recessione perché parliamo di sistemi crollati sotto i debiti per me per la mia esperienza la prima cosa da fare è molto marxiana nel senso che richiama i grandi i grandi problemi con l'economia i grandi rapporti con l'economia per me la prima cosa che bisognerebbe fare è ridefinire tutte le politiche in nome delle quali fino adesso abbiamo garantito la cosiddetta sostenibilità perché se per fare la sostenibilità io privatizzo il sistema automaticamente io nego la natura fondamentale del diritto alla salute se per fare sostenibilità io accetto di fare le aziende io nego questo ma le aziende e la privatizzazione e la famosa sanità sostitutiva sono state fatte per garantire sostenibilità allora cari compagni ma che razza di sostenibilità è quella in ragione dalle quali io faccio fuori i diritti io mi devo inventare una sostenibilità che in realtà non nega i diritti ma li rimette al centro anzi usa i diritti per fare sostenibilità c'è il modo di farlo perché non è un'utopia ci sono altre strade non c'è un modo solo di intendere la sostenibilità non c'è ce ne sono tanti altri e ci sono modi molto più moderni molto più avanzati che permettono di coniugare le nostre cose allora io penso che i due presupposti che sono stati assunti negli anni 90 per contro riformare la sanità perché di contro riforma bisogna parlare vanno rivisti signori io non accetto che la sostenibilità venga fatta privatizzando il sistema semplice io vorrei fare sostenibilità pubblicizzando il sistema io da anni sostengo che bisogna fare più pubblico non meno invece cosa continuiamo a fare molto più privato e molto meno pubblico ma scusate ma parliamo della gente comune la gente comune che io conosco cosa fa ha bisogno di fare una lastra mette le mani in tasca e si va a fare la lastra chiaro perché perché il sistema pubblico non gli offre la lastra ecco allora perché questo ma perché il sistema pubblico è progettato quasi per essere inefficiente quasi per essere asimmetrico dai bisogni della gente io quando è venuta fuori la storia del welfare aziendale fece un casino della madonna perché è inaccettabile vi ricordo scusate che il welfare aziendale tanto per mettere le mani dentro è finanziato dal pubblico perché i fondi sanitari ricevono gli incentivi fiscali noi per farci fare la concorrenza dal privato cacciamo 6 miliardi però i 6 miliardi non li diamo per assumere gli operatori non li diamo per queste cose queste sono assurdità quindi la mia seconda tesi è molto semplice dobbiamo rivedere le politiche di sostenibilità fino ad ora fatte perché sono politiche che sono fondate su dei presupposti incondivisibili cioè non possiamo condividerli se noi accettiamo il diritto alla salute non possiamo condividere questa cosa e qui viene fuori la storia che citava Marco che ringrazio davvero tanto per l'invito mi ha fatto molto piacere della quarta riforma che è una mia vecchia idea uscita qualche anno fa allora la quarta riforma non è la 834 non è una legge di riforma è semplicemente un'idea nuova di sostenibilità che però va organizzata io sento sempre tutti che vogliono come dire riformare tutto allora io domando sempre ma scusate ma tutti vogliono riformare ma tutte ste riforme che volete fare dove le mettiamo in quale progetto di legge le mettiamo perché da qualche parte bisognerà pur metterle allora io per esempio sono convinto che bisogna superare le aziende ci sono altri modi di gestire la sanità pubblica ma Cacaro ce ne ha indicati alcuni ci sono modi di gestire che sono modi partecipati perché io ce l'ho con l'azienda perché l'azienda non è un modo partecipato di gestire è un modo come dire monocratico e non funziona ma non funziona non solo per ragioni democratiche di questo tipo ma non funziona perché la sanità è complessa e la gestione della complessità ti obbliga a coinvolgere i saperi che sanno ecco perché è sbagliato ma che cavolo ne sa un direttore generale di tutte le grandi complessità che ci sono in un'azienda chiaro però dovrò pur trovare un buco da qualche parte dove mettere la mia proposta io ho proposto di sperimentare i consorzi la formula del consorzio sapete perché? mica perché il consorzio è più bravo dell'azienda le cose tecniche si gestiscono perché il consorzio per sua natura è una forma di gestione partecipata perché io credo che la sanità deve essere una gestione partecipata tutto qui poi non vanno bene non va bene la mia proposta troviamone un'altra però una cosa deve essere chiara che la gestione deve essere partecipata noi avevamo i consigli dei sanitari negli ospedali non ci abbiamo più niente caspita prendono le decisioni sulla sanità nessuno lo involge a niente ma qualcuno citava il PNRR ma vi risulta che sul PNRR è stata fatta una consultazione degli operatori sanitari nessuno ha chiamato nessuno ma di che cavolo parliamo a proposito di cosa partecipata allora la quarta riforma è un modo di dire Marco mettiamo nero su bianco cosa intendiamo noi per sostenibilità perché i conti con la sostenibilità li dobbiamo fare e li dobbiamo fare adesso ci sono altre strade ci sono strade che vanno percorse esplorate questa è l'idea di quarta riforma la mia idea di quarta riforma a dire il vero aveva anche un'altra ambizione perché io sostengo da vecchio riformatore quale io ritengo di essere che la riforma sanitaria del 78 è una grande legge nessuno lo discute ma non è priva di difetti non è priva di aporie non è priva di debolezze ce ne sono tantissime ma vi siete mai chiesti perché i medici di medicina generale nel terzo millennio continuano a lavorare esattamente come lavoravano i medici di medicina generale delle mutue ma vi siete mai chiesti perché come si lavora in un ospedale si lavora esattamente come 50 anni fa vi siete mai chiesti perché i medici specialistici sono uguali a quelli delle mutue ma perché è qualcosa non è cambiato quindi sta grande riforma non ha cambiato tutto quello che deve cambiare io vorrei cambiare quello che non è stato cambiato io vorrei mettere le mani su alcune cose che non si sono fermate vorrei cambiare vorrei fare una riforma più ampia più completa da questo punto di vista veniamo alla quarta tesi alla quinta tesi che cos'è la sostenibilità che tendo io e qui veramente sono contento di confrontarmi con voi perché voi siete la memoria storica ma l'esperienza storica di questa idea non me la sono inventata io voi avete saputo sicuramente che qualche mese fa sono stati introdotti delle modifiche alla Costituzione su articolo 9 e articolo 41 che riguardano l'ambiente quando io ho letto sta roba mi si è allargato il cuore cerchiamo di capire questi due articoli qual è la loro razza innanzitutto con queste modifiche per la prima volta nella storia delle Costituzioni nel mondo entra a pieno diritto il diritto all'ambiente diritto i raffinati lo chiamano della quarta generazione perché ci sono varie generazioni di diritti insomma la prima generazione è quella delle libertà è la rivoluzione francese eccetera ovviamente quando abbiamo fatto la Costituzione nel 47 il problema dell'ambiente che abbiamo adesso non ce l'avevamo quindi lo trovo normale che oggi venga fuori questa cosa qua ma la cosa interessante Marco è che l'ingresso dell'ambiente io lo interpreto come un'estensione dell'articolo 32 cioè per me introdurre l'ambiente nel discorso della salute significa allargare il discorso della salute non restringerlo ma l'intento politico di questi articoli a me ha molto colpito perché perché l'obiettivo finale qual è di questi articoli che enfatizzano l'ambiente mettono al centro l'ambiente è quello di porre dei freni soprattutto all'economia perché i grandi problemi di salute ma non solo di salute di benessere e non solo di benessere di malattie noi ce l'abbiamo soprattutto nei rapporti con l'economia e ce l'ha spiegato Luigi Mara quando ho visto prima mi ha molto commosso rivederlo perché era uno di quelli che ovviamente frequentava il dipartimento di salute di salute ambiente dalla CGL ecco quindi lavorava e diceva ma noi io ero responsabile del dipartimento ambiente salute della CGL allora quindi questo è il problema dell'economia noi il rapporto tra salute ed economia lo dobbiamo affrontare e risolvere perché da questo rapporto noi possiamo produrre più benessere e possiamo anche dedurre altre nuove linee io non ve la faccio a lunga con le mie concettualizzazioni però da una parte tu hai un tipo di sostenibilità che fondamentalmente si basa sulla compatibilità il diritto deve essere compatibile con le risorse il solo fatto di rendere compatibile il diritto distrugge il diritto perché lo rende dipendente subordinato ad altri valori io penso che ci sia un'altra idea io l'ho chiamata la compossibilità è possibile che coesistano allo stesso tempo sia il diritto alla salute che l'economia a certe condizioni queste condizioni le dobbiamo scrivere e sono tutte condizioni che noi rivolgiamo all'economia io ho anche come dire il segreto il segreto desiderio di l'illusione forse non lo so che la batosta della pandemia abbia insegnato una grande lezione all'economia perché l'economia è rimasta sotto a questa pandemia ha perso miliardi 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 quelli che io frequento hanno capito benissimo che anche all'economia gli conviene la salute non solo all'interesse collettivo l'interesse collettivo è anche questo ecco e la mia idea è quella proprio di ripensare l'idea di salute per me voi avete coniato lo slogan storico la salute non è una merce è uno slogan dal quale io mi sono nutrito fin da ragazzo perché è sempre una cosa storica penso che dobbiamo fare un salto non dobbiamo solo dire cosa non è dobbiamo cominciare a dire cosa è e per me oggi la salute in questo mondo con questi casini per me la salute è produzione di ricchezza produzione di ricchezza vorrei introdurre una differenza tra la ricchezza economica misurata dal PIL e la ricchezza di un paese misurata dai diritti dalla salute dall'istruzione per esempio un paese ricco è un paese che sta bene in salute che produce salute avete mai visto un paese povero in buona salute io mai quindi l'idea di produrre salute come ricchezza significa produrre salute come capitale ed è una strada sulla quale dobbiamo ovviamente approfondire confrontarci attraverso la quale noi possiamo dare finalmente l'idea di sostenibilità che ci serve io voglio fare sostenibilità non scappo dalla sostenibilità ma non la faccio come dici tu non faccio sostenibilità fregando il diritto faccio sostenibilità producendo salute come ricchezza e la voglio misurare questa produzione di ricchezza la voglio misurare e la voglio misurare con dei parametri precisi perché la voglio rapportare poi ai miei fabbisogni fabbisogni di cura ecco queste sono un po' le tesi l'ultima tese che mi sono segnato la tesi numero 6 è l'ho segnata così noi e noi 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 che siamo qui che facciamo è un quesito non secondario perché io credo che se siamo arrivati al punto che il diritto alla salute non è più un diritto fondamentale qualche responsabilità politica c'è qualcuno avrà fatto in modo che non è più fondamentale è successo qualcosa o no ecco allora non vorrei che voi dimenticaste una cosa che nelle ultime elezioni elettorali la sinistra di governo la cosiddetta sinistra di governo ha preso una bella sberla forte al punto tale che oggi la sinistra di governo va a congresso addirittura Letta vuole fare un congresso costituente e mi sono chiesto ma supponiamo di fare il congresso costituente parlo del PD ma che scrive che cosa scrivo io sulla tesi della sanità che ci scrivo ripropongo la 229 ripropongo la 502 o vado avanti ripropongo le aziende o no ripropongo la sanità sostitutiva o no io penso che noi dobbiamo proporre altre cose allora quando io dico noi intendo che oggi l'unica cosa l'unico soggetto secondo me che è rimasto a difendere questi valori siamo proprio noi e quindi noi abbiamo un compito in più nel senso che noi dobbiamo convincere chi ha preso una strada sbagliata a cambiare le politiche cambiare le politiche perché dobbiamo assolutamente rimettere il diritto alla salute nel suo ruolo di diritto fondamentale i diritti fondamentali non sono negoziabili nello stesso tempo ci rendiamo disponibili ad affrontare tutte le sfide del tempo volete la sostenibilità e io vi propongo la sostenibilità però faccio sostenibilità con un'altra medicina faccio sostenibilità con un altro operatore faccio sostenibilità con un'altra organizzazione del lavoro faccio sostenibilità con un'altra università questo è fare sostenibilità perché se la sostenibilità è solo quella della Bocconi l'articolo 32 non rinascerà mai vi ringrazio molto Maria Luisa Sartori ci dirà ulteriori indicazioni sul processo con cui siamo arrivati alla condizione attuale ricordo che Luigi Umare diceva che i diritti fondamentali in particolare quelli della salute sono indisponibili che penso che è un sinonimo abbastanza vicino a quello che diceva Ivan Cavicchi ricordo soltanto invito a tutti quelli che non si sono già in qualche modo registrati comunque registrarsi in maniera tale che ovviamente poi manteniamo i contatti vieni qui che così ti vedono buonasera a tutti grazie dell'invito naturalmente vi devo dare un'informazione ho cambiato all'ultimo diciamo così il titolo della mia comunicazione che diventa la crescente privatizzazione della sanità esige un'autocritica cioè una ricostruzione dei fatti è anche un'autocritica allora penso che sia il caso di parlare di questo oggi dato il contesto che noi conosciamo che come dire si presenta come una fase drammatica che stiamo vivendo quindi sostanzialmente vi dico in due parole di che cosa intendo parlare vorrei parlare di ciò che non è stato fatto da parte nostra delle trascuratezze di chi intende come tutti noi sinceramente difendere il servizio sanitario nazionale il filo del mio ragionamento tocca cinque punti e poi vado alle conclusioni cerco di farlo velocemente è un po' lungo poi spero che qualcuno mi dia un'altra a un certo punto io cercherò di concludere nei tempi dovuti allora il primo punto l'ho intitolato così afflitti e in ritirata dopo lo sconcerto provato di fronte alla svolta del 92 di cui abbiamo parlato ampiamente già regionalizzazione aziendalizzazione della sanità con apertura ai privati e di fronte anche al cambio di governo nazionale del 94 che segnava l'inizio della seconda repubblica stiamo parlando di un sacco di tempo fa non è seguita secondo me una riflessione sufficientemente approfondita rivolta a quanto stesse avvenendo ai suoi effetti di lungo periodo in particolare si è trascurato troppo a lungo secondo il mio punto di vista di considerare come e con la dovuta attenzione il problema dell'effettiva presenza del privato nel servizio sanitario nazionale non si è valutato che cosa la presenza del privato potesse determinare a lunga su vari piani e sappiamo come la presenza del privato sia stata ideologicamente motivata e sostenuta il secondo punto è attenzione rivolta altrove e disinformazione mi sono data un sottotitolo che è un po' questo un po' lungo però cerca di spiegare che cosa intendo indifferenza per ambiti di approfondimento diversi dal medico clinico non si sono stati assolutamente studiati i modelli realizzati in sanità distorsioni di percezione ricorso a fonti informativi inadeguate a descrivere criticamente la realtà organizzativa purtroppo se queste diciamo erano le fonti informative inadeguate era era quasi una cosa come dire costretta nel senso che erano le uniche fonti esistenti e quindi da tutto questo una mancata visione di insieme adesso cerco di spiegare che cosa intendo le realtà regionali si andavano intanto differenziando e così pure i modelli del servizio sanitario in sanità ma le figure chiave della sanità i medici gli operatori sanitari le loro associazioni se ne sono non se ne sono molto occupati del resto queste figure non venivano e non vengono ancora formate in alcun modo per porsi criticamente questo problema è un difetto evidente delle facoltà di medicina che non insegnano che cosa sia concretamente il servizio sanitario nazionale in ogni regione oggi perché succede questo per non parlare poi della formazione obbligatoria per accedere le funzioni di gestione organizzativa delle strutture sanitarie i master lo sappiamo i management forniscono tutto tranne che un approccio critico nei confronti delle forme assunte dal nostro servizio sanitario nazionale nelle diverse regioni nel 2000 appare il primo rapporto oasi della Bocconi che diventerà per molti di noi una sorta di strumento un riferimento importante forse troppo importante i rapporti oasi e questo ci tengo a dirlo perché secondo me dovremmo pensare anche a questo aspetto ci consentono un confronto fra i dati strutturali delle regioni ma non fanno questo per quanto riguarda i modelli di servizio sanitario regionale compiutamente intesi quindi la domanda che ci viene è le elaborazioni vengono realizzate in un modo limpidamente indipendente evidente che insomma diventa una domanda retorica questa perché la Bocconi sembra non porsi dal mio punto di vista naturalmente il problema di voler verificare i dati a disposizione le informazioni che raccoglie né si pone l'obiettivo lo dicono loro stessi nell'intervista di interpretare le sostanziali differenze del contesto dei modelli regionali per orientare le scelte in coerenza con il mantenimento del servizio sanitario nazionale pubblico insomma la Bocconi non valuta i modelli e non l'ha fatto neanche dopo la pandemia o durante la pandemia e nel 2006 2008 la Bocconi scriveva un libretto alcuni ricercatori della Bocconi scrivevano un libro sulle strategie di posizionamento e sulle diversi scenari riferiti al servizio sanitario nazionale beh lì dentro non c'era uno spazio per il servizio sanitario pubblico le trasformazioni che avevano immaginato erano di tutt'altro tipo e molto più diciamo aderenti a quello che oggi vediamo quindi è uno strumento che livella non evidenzia si sottrae dall'interpretare in profondità le differenze esistenti fra i modelli regionali e quindi in tutto questo periodo c'è mancato qualcosa la ricerca la ricerca orientata a recuperare le informazioni che servono davvero per capire per esempio in Lombardia visto che me ne sono occupata a lungo con Formigone a partire dal 95 è stato avviato un percorso di disallineamento della regione da tutto il resto del paese e alcune caratteristiche di questo disallineamento venivano ostentate perché ovviamente erano un fiore all'occhiello per la Lombardia altre venivano nascoste perché rappresentavano il problema Lombardia e il principale disallineamento della Lombardia quale è stato che non venne e che non venne assolutamente evidenziato nei modi dovuti e pienamente comprensibili dalla letteratura in che cosa è consistito c'è stato lo scorporo nel 97 della funzione di erogazione dei servizi dalle altre funzioni scorporo all'interno della ASL in modo tale da costituire un quasi mercato che cos'è il quasi mercato è far diventare erogatori due soggetti il pubblico e il privato metterli in concorrenza tra loro ed avere una terza diciamo struttura che in Lombardia successivamente è stata chiamata ATS che ha funzioni prevalentemente di regolazione e sta distruggendo sempre più le funzioni di prevenzione all'interno va bene allora questo è quello che è avvenuto e questa cosa l'hanno fatta passare come una cosa che più o meno poi avveniva nelle altre regioni cosa che non è quello che è avvenuto in Lombardia non è avvenuto inizialmente nelle altre regioni cioè c'è stato davvero questa cosa della scorporo messa in concorrenza però in concorrenza non su un piano di parità come ci è stato detto ma su un piano di ad armi dispari praticamente contrariamente a quanto è stato affermato dal governo regionale quindi nella sostanza ciò che avveniva in Lombardia è stato nascosto ed ha però segnato la storia del servizio sanitario nazionale e cos'è questo è la regolazione che è stata fatta in Lombardia del servizio sanitario regionale che era totalmente differente o in gran parte differente da quello che avveniva nelle altre regioni e questa regolazione è stata contrassegnata da pratiche decisamente a favore del privato io ho scritto una parte del mio libro riferita molto spessa e molto corposa riferita a tutte le diverse attività e a tutti i diversi interventi che sono stati fatti per favorire il privato impensabili prima di fare la ricerca non avevo idea di cosa avrei trovato sono stata io stessa molto molto sorpresa comunque appunto valeva la pena poi di parlarne però la domanda è quanto nelle altre regioni si sapeva di queste cose secondo me non era non era arrivata questa informazione perché c'era tutto che impediva che questa informazione arrivasse tra l'altro siamo abituati a non studiare i nostri modelli organizzativi cosa che invece all'estero viene fatta e poi all'interno nelle nostre regioni un po' ognuno guardava il proprio orticello cioè il proprio ambito quindi questa cosa facciamo un passo indietro ci sono due o tre cosette che andrebbero ancora dette degli anni 90 e successivi a livello nazionale nei primi anni 90 si erano affacciate di imposte teorie sostenute anche da istituzioni statali che secondavano la svolta privatistica mi vengono in mente alcuni saggi del CNR di ricercatori del CNR e poi alcuni saggi dell'università negli anni successivi e forse qui con con Ivan abbiamo idee un po' diverse ma insomma il bello è questo di potersi confrontare allora negli anni successivi nei primi anni 2000 chi a livello nazionale aveva capito cosa stava avvenendo in Lombardia e l'aveva capito bene che era appunto una privatizzazione della sanità e del sociosanitario sfrenata e senza regole e si era attivata per contrastarla questa persona venne ostacolata e allontanata dalle posizioni di potere sto parlando di Rosi Bindi che venne sostituita da Veronesi ministro della salute beh è Veronesi che validò pienamente la sperimentazione della regione Lombardia questo va detto perché altrimenti cioè poi fa sempre parte del PD no no è così è un dato di fatto no lo sappiamo questo lo sappiamo ed è quello che poi ha avuto appunto una posizione che ha praticamente dato legittimità totale ad ogni tipo di privatizzazione all'interno della regione lui stesso era in un totale conflitto di interesse aveva un IRZ privato di sua proprietà di fatto pagato con i soldi pubblici è diventato ministro della salute e ha allontanato Bindi che questa cosa la voleva almeno in parte contrastare va bene poi le altre cose ci sono insomma ci possono essere le altre diciamo questioni che venivano poste da altri quindi se questa cosa è vera ah no poi c'è un altro aspetto che secondo me va messo in evidenza le società di consulenza internazionale gestite da manager formati sia la Bocconi tutti i direttori sono la Bocconi diffondevano tutti i livelli del servizio sanitario nazionale le pratiche che avrebbero facilitato la privatizzazione del servizio sanitario regionale dei servizi sanitari con la stessa impostazione di fondo indipendentemente dall'orientamento politico della regione o del ministero presso il quale facevano la consulenza e poi non è finita c'è anche l'aziendalizzazione privatizzazione vista come portato dell'ideologia della concorrenza in sanità che ha condotto insomma in sostanza questo tipo di realizzazione ha portato anche ad una strana istituzione di associazioni di interesse che oggi aggregano le aziende sanitarie pubbliche cioè che senso hanno se non interpretate alla luce dell'intenzione di privatizzare tutto cioè sono state costituite delle associazioni che raggruppavano le ASL no? quindi la Fiaso no? la Feder Sanità Ance eccetera che diventavano controaltare di Aioppa Neba Naste eccetera no? siccome c'erano le associazioni private allora ci dovevano essere anche le associazioni delle ASL no? assurdo paradosso totale va bene allora questo è il secondo punto terzo punto ritardato risveglio sul tema della presenza del privato in sanità questa è una colpa di tutti noi ma proprio tutti inclusa me naturalmente e non ci si è attrezzati a sufficienza rispetto a questo cioè quindi ci siamo posti il problema quando i buoi erano già scappati ok? cioè quando il posizionamento in altre parole del privato nel socio-sanitario socio-sanitario inteso nei due rami aveva ormai raggiunto limiti di guardia in Lombardia e anche in una certa parte consistente del paese è mancata l'intenzione di verificare quantità localizzazione e qualità del privato presente in sanità noto che tutte le informazioni circolanti e lo dico come una sorta di avvisaglia sottostimano questa presenza alla grande cioè l'elenco delle aziende accreditate della Lombardia riporta i gestori di più strutture quindi quando noi andiamo a vedere quell'elenco ne vediamo tre di gestori a fronte di 130 strutture che sono sul territorio sto facendo il caso della SINLAB una multinazionale presentissima in Italia circa 300 punti di servizio bene vado avanti cerco di essere più spedita altrimenti non arrivo alla fine quindi quello che è successo in Lombardia quindi il discorso politico ripetuto e penetrante il gioco degli interessi diffusi la pratica amministrativa che ha potenziato il privato in mille modi non evidenti per cui un'opacità totale hanno ritardato questo nostro risveglio e reso di fatto impossibile far diventare questo il tema questo il tema naturalmente alcune forze politiche non usano la parola privatizzazione per cui con loro si fa fatica a parlare sto parlando del PD naturalmente ho avuto delle esperienze dirette allora il rapporto pubblico privato veniva esaltato in Lombardia per i supposti esiti positivi naturalmente e minimizzato per non parlare dei problemi che naturalmente produceva veniva assolutamente considerato un tabù porsi il problema di discutere in senso critico questa questione e le varie associazioni di categoria sindacale non hanno certo svolto un ruolo critico a questo riguardo nemmeno i partiti di opposizione lo hanno fatto fino a tempi recentissimi però con modalità diverse in Lombardia sto sempre parlando della Lombardia quindi oltre a non conoscere quello che succedeva in Lombardia che era importantissimo conoscere perché aveva un impatto straordinario sul rafforzamento del privato questo è il primo punto oltre a questo il fatto portava un altro problema che era quello che non capendo quello che stesse succedendo in Lombardia non si riusciva a comprendere come si potesse poi estendere questa cosa altrove e come si è estesa inconsapevolmente aveva molti canali però ve ne cito uno la consulenza una società di consulenza che ha realizzato il patto di cura in Lombardia e che va poi in Toscana propone il patto di cura che è la cosa più abberrante che esista perché è un patto di cura tra il paziente cosiddetto il cittadino e la struttura pubblica in Toscana non la struttura privata perché in Lombardia è fatto pensando che tutto diventerà privato e quindi serve il patto di cura ma in Toscana perché doveva essere proposto e perché nessuno ha rifiutato quel tipo di istituto giuridico ok quindi le regioni nelle regioni a conduzione centro-sinistra cosa è successo che non avendo in mente quello che stava succedendo davvero fino in fondo in Lombardia perché poi anche i lombardi dei partiti di opposizione si rapportavano gli altri compagni di partito delle altre regioni in una modalità come se fossero un po' le stesse cose quelle che facevano ma erano realtà completamente diverse i lombardi che parlavano con i toscani si facevano credere come dire come i toscani agli occhi dei toscani li ho visti io vi parlo di cose sempre che in genere tendo ad osservare perché ci sono sono anch'io lì presente quindi quindi cosa è successo che si è messo l'accento prevalentemente sulla privatizzazione che era dovuta al fatto che si inserivano le assepurazioni ma quello che ci dice la Lombardia è che la privatizzazione è una cosa molto più estesa molto più articolata cioè c'è una gamma di interventi che vogliono dire essere nel processo di privatizzazione per esempio il Niguarda due giorni fa abbiamo saputo che ha istituito una fondazione Niguarda ospedale pubblico il principale ospedale pubblico della Lombardia il più grande maestoso ok quello sul quale Formigoni ha giocato insomma anche il suo di prestigio una parte di quel prestigio residuo ok questo qui ha realizzato una fondazione e il direttore generale del Niguarda che è una ASST cioè un'azienda socio-sanitaria territoriale è il capo della fondazione e questo dovrebbe facilitare dice lui tutta una serie di operazioni immagino di tipo commerciale eccetera ok capite ogni giorno ce n'è una di nuove ed ha a che fare con un'innovazione nei modi della privatizzazione però al di là delle leggi al di là della legge di riforma della Lombardia noi per capire cosa succede nel paese dobbiamo leggere i documenti degli stakeholder cosiddetti che sono invece alter ego di una gestione privatistica quale quella della Lombardia dobbiamo leggere i documenti fatti dagli enti della Confindustria lì non occorre che andiamo poi a studiarci la nostra legge perché c'è già tutto lì cioè voglio dire non solo ci dicono quello che c'è ma anche quello che verrà fatto perché quella è la linea ok quella è la linea ma non solo anche Aspen leggete il documento di Aspen lì c'è il progetto nella sua completezza quindi e poi il famoso principio adesso questo fuoriesco un attimo dalla però questa parentesi la vorrei fare il famoso principio di equivalenza pubblico-privato della regione Lombardia credete cioè sta semplicemente formalizzando sul piano giuridico una realtà che è esistente da moltissimo tempo era già così anzi non erano equivalenti due soggetti il soggetto privato era sopra il soggetto pubblico in Lombardia ma da tempo quindi giusto combattere questo principio questo principio non ci deve essere assolutamente ci sono varie ragioni però per dire questo principio è stato già attuato scusate sono estremamente in ritardo allora devo andare avanti quindi c'è un problema di comprensione del raggio di azione della sanità privata c'è un problema di come dire di comprendere che la Lombardia comunque apre il privato indipendentemente dalla programmazione e poi c'è c'è quest'altra cosa da capire che le altre regioni devono capire che quello che sta avvenendo in Lombardia è il modello che verrà assolutamente in qualche modo in qualche modo anche anche se non lo vogliono no? Surtriziamente si espanderà anche nelle altre regioni e quello che non hanno capito ha purtroppo per loro non consentito loro di cogliere in anticipo la pericolosità di quello che stava avvenendo quindi tutto quello che è avvenuto è avvenuto per assenza di analisi indipendenti soprattutto accademiche per una sottoconsiderazione di alcuni elementi della realtà per una esclusiva focalizzazione sugli aspetti medico-clinici in ambiti di servizio circoscritti ambiti specialistici ospedalieri medicina primaria prevenzione e le loro specifiche articolazioni il proprio orticello fuori bisogna andare fuori dall'orticello tutti tutti io che non conosco la prevenzione devo conoscere la prevenzione quelli che non conoscono gli aspetti riferiti alla medicina primaria devono impadronirsene non dobbiamo più ragionare in termini di solo salute mentale piuttosto che dobbiamo aprire questa cosa aprire e cercare di capire gli altri mondi altrimenti non riusciremo e poi cosa gravissima che abbiamo fatto è che non siamo stati sufficientemente capaci di capire e di conoscere e di soppesare le minacce presenti e future che provengono dal contesto internazionale nel settore sanitario italiano è già entrata è già entrato il capitale finanziario questo ovviamente lo sappiamo ma oltre alle grandi corporation multinazionali tedesche francesi statunitensi inglesi lusserbunchesi fresenius corian cos silab gruppo maugeri e potremmo continuare questa lista moltissima perché il gruppo san donato aveva 200 più grande gruppo privato italiano della sanità privata italiana aveva 200 posti letto in lombardia prima dei formigoni adesso ne ha 6.000 a 18 ospedali di cui 3 IRCS cioè istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dobbiamo ricordare che gli IRCS hanno una sovratarifazione sono d'accordo con Ivan quando dice che gli slogan vanno bene però bisogna andare oltre bisogna andare oltre e quindi sono penso che si debba si debba come dire andare verso altre diciamo obiettivi quello che penso io è che dobbiamo costruire un bagaglio di idee chiare su come organizzare anche una diversa difesa non dico che gli slogan non vadano buttati vanno bene però bisogna anche organizzare una diversa difesa e bisogna trovare le ragioni secondo me scientifiche e inoppugnabili su cui fondare il nostro rifiuto a questo sbilanciamento verso il privato il nostro rifiuto quindi a quello che è l'applicazione del pensiero neoliberista su qua sono ovviamente d'accordo con Ivan e anche con quello che diceva Giorgi quindi quello che ci spetta è la ricerca delle ragioni scientifiche inoppugnabili che contrastino la privatizzazione del servizio sanitario nazionale è tutta una ricerca da fare da parte nostra teorie e metodi adotti dal pensiero dominante devono essere messi a fuoco studiati fino in fondo perché sappiamo che le pratiche di privatizzazione per realizzarsi si sono basate su una continua giustificazione ideologica dell'opportunità o necessità di un ricorso al privato e quindi della necessità della presenza del privato e quindi della trasformazione organizzativa che comportava la privatizzazione naturalmente tutto questo poi veniva ammantato di presunti valori esibiti in primo piano perché intanto si nascondeva quello che in effetti si faceva dall'altra parte quindi ecco vi dico quali sono secondo me gli ambiti sui quali dobbiamo cercare di trovare delle diciamo idee forti che contrastino questo tipo di posizione allora contro argomentazioni le dobbiamo trovare in questi ambiti è proprio vero che stando nell'ambito medico clinico nel privato vi è una maggiore appropriatezza e qualità del servizio come dice IOP beh se noi leggiamo uno degli articoli di The Lancet questo ci avverte che privatizzare fa male alla salute ok quindi qua avremo un'ampio possibilità di lavorare su queste cose secondo ambito su cui lavorare toccato anche da Ivan economico organizzativo se si ricorre al privato è proprio vero che anche in questo caso se si ricorre al privato vi è un maggior risparmio di costi e una maggiore efficienza io lo vedo da un altro lato rispetto a come lo vedeva lui ma le due cose potrebbero come dire integrarsi i nostri due punti di vista da questo punto su questo punto cioè cerco di spiegare cosa intendo io i costi risparmiati è vero che il privato risparmia costi il privato inteso come organizzazione privata che era servizi in sanità o nel socio sanitario però questi si abbattono sulle condizioni di lavoro cioè questi risparmiati si abbattono su condizioni di lavoro dai medici dai professionisti della sanità del privato stesso no? e quindi non riducono i costi della spesa sanitaria si riducono i costi ma per loro per far profitti ma non per ridurre i nostri costi quindi non abbiamo noi come contribuenti nessun interesse no? ad aprire il privato in quanto è più efficiente più efficiente per sé non per noi quindi e tra l'altro per noi è solo danno perché crea danni ok terzo punto la tutela della salute viene garantita dal privato dicono no è proprio vero che la salute viene garantita dal privato nello stesso modo del pubblico in quanto il privato ha finalità in fondo pubbliche e che questa sostituzione non genera problemi di ordine sociale beh l'ultimo libro della Cordelli che io ho molto apprezzato Chiara Cordelli che ha scritto un libro che si chiama Privatocrazia ci può dare una mano anche a ribaltare queste idee va bene quindi c'è mancato un armamentario teorico secondo me e vale la pena di farlo e ci manca soprattutto anche questo vale la pena di farlo un bagaglio solido di conoscenza critica dello stato dell'arte del nostro SSR quindi non solo dell'SSN perché dobbiamo capire anche cosa c'è lì quindi dal mio punto di vista il diritto fondamentale alla salute deve essere difeso a tutti i livelli capendo quali sono i punti gli innumerevoli punti di attacco al diritto stesso qui e ora conclusioni i nodi vengono al pettine stanno venendo al pettine adesso tutti ci troviamo di fronte ad un arrembaggio del privato del privato privato non solo del privato a contratto cioè ci sono due attacchi l'attacco del privato che è a contratto che cerca sempre di mangiare spazi risorse eccetera nell'ambito pubblico e ce la fa in Lombardia ce la fa sempre è lui che ha detto alle regole è lui che ha detto alle regole alla regione e la regione ci sta io l'ho chiamata negoziazione arrendevole sono stata anche buona avrei potuto usare un aggettivo come dire più deciso vabbè però c'è anche l'altro c'è il privato privato quello che comunque in Lombardia viene autorizzato senza battere ciglio pensate al Sant'Agostino che adesso mira anche non solo a rimanere privato privato e a fare tutto quello che desidera fare distruggendo ogni cosa medicina di base guardia medica visite specialistiche visite diagnostiche eccetera cioè nel senso che si propone lui come sostitutivo a basso prezzo di questo servizio però snaturando completamente il servizio perché la medicina di base è fatta dal tuo medico di base un conto la medicina di base è fatta da uno che non ti conosce e ti prescrive delle medicine e tu ti senti magari rinforzato è tutta un'altra cosa ok quindi per parlare solo di un aspetto ma ovviamente sono come dire ci sono molte altre cose che non sto considerando allora è proprio ora il cittadino non può il cittadino ora non può rinviare la soddisfazione del proprio bisogno no e ha bisogno però non solo di cioè quello che sta facendo lo fa perché non ha non siamo stati in grado di passargli alcune idee che sono di fatto una come dire una rialfabetizzazione rispetto alle questioni fondamentali che riguardano un servizio sanitario nazionale pubblico queste cose non le conoscono i cittadini lombardi quelli come me della mia età forse si ricordano qualcosa ma tutti gli altri non le sanno quindi bisogna tornare a spiegare quella cosa che loro non hanno mai conosciuto perché io ho conosciuto due modelli la sanità universalistica e la neoliberistica ma loro hanno visto solo la neoliberistica che negava i fondamenti dell'universalistica quindi lì va fatto un lavoro di rialfabetizzazione partendo proprio quindi loro non sanno quali sono i loro veri interessi non sanno che facendo quello che stanno facendo cioè riferendosi andando a chiedere il servizio privato a pagamento stanno smantellando completamente i pochi resti di quello che c'è del servizio sanitario pubblico va bene io finisco qua grazie grazie diciamo il risveglio si è avuto con la pandemia in realtà tant'è vero che la Lombardia penso abbia pagato il prezzo più caro proprio con la pandemia ora ci sarebbe Vittorio Agnoletto proprio che ci dovrebbe parlare della lezione della pandemia poi visto che vengo dalla Toscana ti confermo che il modello Lombardo sta facendo scuola sulle forme di pattenariato pubblico privato buon pomeriggio sera a tutti sono state dette tantissime cose quindi devo fare uno slalom per cercare di non ripetere le cose già dette e cercherò anche di non parlare solo di Lombardia vedremo però parto dalla Lombardia con un dato che ho verificato stamattina la Lombardia ha per il Covid con l'ambiguità che ha questo dato ma che è paragonabile al resto del mondo in particolare del mondo occidentale quindi lo possiamo prendere come tale la Lombardia ha 426 decessi per 100.000 abitanti questo significa che se avesse vinto Bossi e la Lombardia fosse diventata una nazione indipendente a differenza di quanto dicevo quattro mesi fa non sarebbe al decimo posto ma sarebbe al sesto posto a livello mondiale come numero di decessi per Covid in relazione alla popolazione davanti alla Lombardia ci sarebbero solo Perù Bolgaria Bosnia Nord Macedonia e Montenegro dopo la Lombardia avrebbe la Georgia con 423 ma la Lombardia ha uno dei servizi dei servizi sanitari più celebrati o almeno auto celebrati dalla giunta regionale c'è qualcosa che non torna sesto posto al mondo se fosse una nazione l'Italia ha 297 decessi ogni 100.000 abitanti per Covid bene solo una nazione nell'Europa occidentale davanti all'Italia la Grecia con 310 ma la Grecia ha avuto il default e le crisi che tutti noi conosciamo e ha avuto i piani di aggiustamento strutturale portati avanti dall'Altroid che è della BCE parentesi Draghi chiusa parentesi chiaro? quindi noi siamo subito dopo la Grecia come nazione e come Italia e abbiamo che la Francia ha il 50% in meno di decessi ogni 100.000 abitanti la Germania ha quasi il 50% in meno dell'Italia la Norvegia ne ha 4 volte in meno sempre in rapporto a 100.000 abitanti e cosa su cui dovremmo riflettere la Svezia che ha attuato tutta un'altra strategia al 50% in meno di decessi rispetto all'Italia ogni 100.000 abitanti allora siamo di fronte a una catastrofe prodotta dall'azione del virus in sinergia con l'inettitudine dei responsabili della sanità pubblica una sanità pubblica che ha avuto negli ultimi 10-12 anni tagli la professoressa Sartor ce l'ha spiegato molto bene per tanto tempo di 37 miliardi e una situazione dove la Lombardia ha stabilito l'equivalenza del pubblico e privato era sancito per legge adesso ma l'ha applicato ormai da tantissimi anni questo è il quadro secondo passaggio nel 2021 la stima della speranza di vita alla nascita in Italia è diminuita di 1,1 anno rispetto alla pandemia ma se andiamo a vedere che cosa è accaduto nel 2020 in provincia di Bergamo si sono persi 4 anni di speranza di attesa di vita e a Cremona se non sono persi 3 cioè in un colpo solo perdere 4 anni o 3 anni di speranza di vita che sono stati conquistati con la storia del genere umano che è andata avanti per decenni e direi addirittura per secoli la dice molto chiara allora cosa c'è dietro questa situazione ci sono innanzitutto ragioni strutturali sulle quali non mi dilungo perché sono stati spiegati molto bene cioè prima di tutto la privatizzazione del servizio sanitario sotto tutti gli aspetti secondo di cui si è discusso un po' meno un servizio sanitario che è fatto coincidere unicamente con la cura e in Lombardia con la cura fondata unicamente sull'alta tecnologia e sugli ultimi farmaci sviluppati che hanno dei costi stratosferici poi ci sono anche le ragioni più quotidiane del disastro della gestione che è avvenuta e quindi dei responsabili politici in quel momento piani pandemici inesistenti scarsità di reagenti e tamponi medici costretti a lavorare senza dispositivi di protezione le usca per l'assistenza domiciliare presenti solo sulla casa la mancata dichiarazione della zona rossa a Bergamo ha fatto sì che abbiamo regalato all'Europa il più grande centro focolaio di infezione ma qualcuno pagherà per questo i magistrati oseranno o non oseranno perché hanno paura di far stare il sistema politico sono chiaro su questo primo ministro e ministro della sanità presidente della regione assessore della sanità stanno sullo stesso terreno perché ognuno di costoro poteva autonomamente senza il consenso dell'altra struttura dichiarare la zona rossa lo poteva fare il governo come lo poteva fare la regione pagheranno o non pagheranno o andranno avanti a formalmente rimpallarsi le responsabilità e poi nei fatti ad agire in modo congiunto per coprirsi a vicenda e poi possiamo aggiungere tante cose il mancato tracciamento siamo dentro medicina democratica e allora io lancio anche una riflessione su cui ho visto che altri che vengono da professioni diverse giuristi economisti ho scoperto l'altro giorno che stanno facendo la stessa riflessione io credo che il dato epidemiologico debba poter essere utilizzato anche in sede giudiziaria sul piano civile e sul piano penale cioè cosa mi hanno detto i magistrati è vero che non ci sono i piani pandemici è vero che non c'è il sistema di allerte per cui non viene indicata immediatamente la presenza di un agente infettivo e quindi non è scattato tutto quello che deve scattare ma noi non possiamo mettere in rapporto questo con la morte della signora Bianchi avvenuta dentro l'RSA o quella del signor Rossi perché non c'è un nesso di casualità momento ma il dato epidemiologico per cui ha avuto un aumento dei decessi un aumento della diffusione in relazione anche alla mancanza di quelle misure che dovrebbero essere prese comportano o non comportano una responsabilità dei soggetti e quando parlo dei soggetti parlo dei politici ma parlo dei dirigenti che stanno a quei livelli da decenni e che dovevano provvedere ai piani pandemici eccetera eccetera questo è importante come principio perché c'entra anche coi processi sull'amianto il problema della responsabilità rispetto al caso singolo ma il dato epidemiologico non conta non può essere utilizzato io penso assolutamente di sì in tutto questo quadro poi arrivano i vaccini e qui va chiarito subito una cosa importante medicina democratica fa una battaglia e guida la battaglia in Italia e collabora in Europa contro i brevetti per chiedere la sospensione dei brevetti non perché è innamorata di quei vaccini ma perché ritiene che se è una battaglia di principio che vada fatta sempre e comunque che siano quei vaccini che siano i farmaci che adesso abbiamo sul covid che siano vaccini i farmaci per altre patologie perché in un sistema liberista riconosciamo il fatto che c'è un profitto esiste su chi produce un nuovo farmaco e vi dicendo ma sosteniamo che ci deve essere un equilibrio tra la tutela del profitto e la tutela della vita e quello che è avvenuto con i vaccini sul covid è esattamente il contrario e qui dico e qui affermo che il nostro paese è stato uno dei paesi più subalterni alle multinazionali del farmaco a livello mondiale e che abbiamo scoperto grazie alla collaborazione di professori che non lavorano in Italia ma italiani perché chi lavora in Italia ha più difficoltà a esporsi lavorano alla Sorbona il professor Cosso per capirci che l'Italia mentre ci battevamo per interrompere per sospendere per tre anni brevetti a livello mondiale ha prolungato di altri cinque anni oltre i vent'anni del brevetto dei brevetti riguardanti il vaccino di Pfizer di Moderna e di tre anni e qualcosa quello di AstraZeneca Pfizer e Moderna sarebbero scaduti nel 2022 sto parlando di brevetti che centrano col vaccino ma che si inseriscono nella catena iniziale degli studi sull'mRNA quando l'ho fatto vedere a Garattini Garattini ha fatto un'intervista a Radio Popolare dicendo beh questo è incredibile perché blocca un ampio spazio di utilizzo dell'mRNA per i cercatori italiani questo è stato il comportamento del nostro governo il ministro responsabile era Giorgetti non so poi se Speranza avesse preso un sonnifero può essere però questo è quello che è avvenuto e allora noi siamo stati su un crinale difficilissimo che era quello da una parte di condurre la battaglia contro i brevetti e di dire i vaccini devono poter arrivare in tutto il mondo anche perché attenzione altrimenti si continueranno a produrre le varianti certo da soli non servono a bloccare le varianti ma sono un elemento importante e le varianti continuano a arrivare e dall'altra parte questo crinale è difficilissimo per dire però noi vogliamo sorvegliare e criticare come questi vaccini vengono utilizzati siamo stati i primi la sera del 21 novembre 2020 diretta con decine di migliaia di persone che ascoltavano i primi il giorno dopo la conferenza stampa 48 ore dopo la conferenza stampa del presidente del consiglio a dire attenzione state mentendo i trial depositati a EMA e FDA non ci dicono che questi vaccini bloccano la trasmissione non c'è dato su quello e c'era un dirigente di Moderna che l'aveva dichiarato e avevamo i documenti su questo le prove sui trial sono state per vedere qual era la loro capacità di bloccare il passaggio dall'infezione alla malattia conclamata e questo è il messaggio che dovete dire e i media invece andavano a dire che bloccava il virus con tutte le conseguenze che uno a quel punto non capiva perché doveva mantenere il distanziamento o usare la mascherina e quindi portando poi grande spazio ai Novavax ma una presenza critica è risultato impossibile siamo stati i primi a dire no agli open days di AstraZeneca perché il vaccino è un intervento sanitario non è come andare a bere una birra e se io do il vaccino a qualcuno prima gli devo fare devo raccogliere il data anamnestico e abbiamo visto quello che è accaduto e siamo stati tra coloro e io ho partecipato a un dibattito spiacevole con uno dei dirigenti della società italiana di pediatria a dire sui bambini non c'è motivo non c'è evidenza scientifica e a dire al rappresentante della società pediatrica scusa collega ma per parlare e dire le cose che dici tu a differenza di quello che dicono in Francia e in Germania non sarebbe più corretto che la tua società non fosse sponsorizzata non avesse sostegni da aziende farmaceutiche tra cui quelle che producono i vaccini che producono i vaccini parli come un Novavax no guarda voglio far arrivare i vaccini in tutto il mondo rispondi nel merito e allora ho fatto fare al mio studente una tesi su i conflitti di interesse delle società scientifiche riconosciute a livello nazionale il 70% hanno sponsorizzazioni da aziende che lavorano in questo campo questo è il punto andiamo avanti detto questo cosa sta avvenendo è stato spiegato perfettamente privatizzazione eccetera voglio aggiungere solo un paio di cose su questo ma voi sapete che quando la CGL di Bergamo ha chiesto alle SST della zona di poter avere i dati sui ricoveri nel pubblico e nel privato per covid di poter sapere la durata e come sono stati trattati gli è stato risposto c'ho il documento perché devo stare attento alle denunce sono specialista quindi devo stare attento in cui una SST gli risponde sono dati coperti da segreto economico per non intralciare la concorrenza vi rendete conto stiamo parlando di dati del servizio sanitario pubblico verso dove andiamo andiamo verso un acquirsi della tragedia non è stato detto fino adesso ma io ho visto la dichiarazione del responsabile sanità di Fratelli d'Italia che ha detto siamo contrari alle case di comunità e agli ospedali di comunità noi dobbiamo fare due cose dice rafforzare i medici in medicina generale vorrei capire come e passare attraverso le reti delle farmacie dove mettere a disposizione un medico sono andata a vedere i dati il 90% delle farmacie 90% a livello nazionale sono strutture private credo che non ci sia da aggiungere altro detto questo però facciamo un passo su tutto un altro argomento per un attimo dalla Lombardia e dall'Italia andiamo al mondo che cosa ci aspetta io riprendo una frase di David Quimen uno degli autori di Spillover noi abbiamo prodotto l'epidemia da coronavirus potrebbe aver avuto inizio con un pipistrello una grotta o altro ma è l'attività umana che l'ha scatenata e poi fa una lista Quimen e dice i virus che emergono dell'uomo suona come un cupo tamburo Maciupo Bolivio 1961 Marburgo Germania 1967 Ebola Zaire Sudan 1976 HIV riconosciuta New York in California 1981 una forma di ANTA Stato Unito Occidentale 1993 eccetera eccetera e più va avanti più lo spazio tra una epidemia e l'altra lo spazio temporale diminuisce la pandemia Covid non è solo un cosiddetto cigno nero era perfettamente prevedibile sebbene non sia stata fatta prevista dai mercati finanziari onniscienti ma non è nemmeno uno shock esogeno la distruzione dell'ambiente che la nostra economia estrativa ha esercitato per oltre un secolo a una radice comune con questa pandemia siamo diventati la specie dominante della terra e quindi siamo in grado di spezzare le catene alimentari di tutti gli altri animali ma siamo anche il miglior veicolo per gli elementi patogeni l'OMS nel 2019 pubblicò il Global Influenza Strategy dove dice la minaccia di una nuova influenza pandemica è sempre presente allora io qui vi propongo un ragionamento e cioè vi dico faccio un'affermazione forte io penso che dobbiamo cambiare il paradigma della medicina si è concluso quel paradigma che si è sviluppato negli ultimi 40 anni centrato tutto sulla cura e dove tutto è stata affidata al futuro della ricerca scientifica sui farmaci quello è concluso perché quella logica per riprendere il discorso di tutti quelli che mi hanno preceduto era anche fondata attenzione bene su una relazione individuale tra servizio sanitario e il singolo cittadino ma se il futuro nell'epoca dell'antropocene è segnato da nuove pandemie allora le priorità sono altre allora tu prima di arrivare alla cura devi col modello di sviluppo cercare di evitare di far sviluppare altre agenti infettivi che facciano il salto di specie poi devi individuare subito l'agente infettivo devi dare l'allarme il sistema di allerte il piano pandemico tutto il resto e una pandemia che cos'è? è una trasmissione di un agente infettivo attraverso dei comportamenti umani allora devi modificare i comportamenti umani e per modificare i comportamenti umani sono fondamentali quelle che la Costituzione individua come le strutture intermedie dello Stato quelle che Gramsci chiamava le case matte sono l'associazionismo sono le presenze collettive organizzate sul territorio che gli aiutano le persone a capire che devono modificare i loro comportamenti su questo dobbiamo puntare allora va cambiata tutta la medicina c'è una bellissima frase di Nancy Guinea pubblicata sul British Medical Journal è una ricercatrice importante che dice il trionfo dell'innovazione farmaceutica sono virgola possono essere vittorie di pirro se queste contribuiscono a disarticolare servizio sanitario e a generare massivi inuguaglianza chiaro che cosa vuol dire è quello che sta avvenendo sto dicendo che non dobbiamo puntare più sulla ricerca dei farmaci eccetera no sto dicendo che abbiamo bisogno più fondi nella sanità ma abbiamo bisogno di una distribuzione di fondi totalmente diversa tra prevenzione diagnosi precoce tutela ambientale e cura e questo il privato non interessa perché il privato va sulla costruzione degli ospedali delle grandi hub e via dicendo ma è la mentalità che deve cambiare perché se questa è la priorità va organizzata in modo diverso il corso di medicina uno non può laurearsi senza sapere nulla di prevenzione senza sapere nulla del rapporto tra uomo e ambiente senza sapere nulla di come funziona l'organizzazione sanitaria senza studiare cosa si è sviluppato durante l'AIDS come strutture sociali intermedie che hanno lavorato per cercare di bloccare la pandemia eccetera eccetera è un approccio completamente diverso che non può essere affidato come è avvenuto in Lombardia a università perché di questo non abbiamo parlato università private sostenute con fondi pubblici allora cambiare il paradigma della medicina vuol dire cambiare tutto ma c'è un altro passaggio di cui non abbiamo discusso vuol dire quando si parla di servizio sanitario nazionale non pensarlo più come un comparto dai bordi definiti i bordi non devono essere definiti tu oggi crei se l'accento non è sulla malattia ma è sulla salute tu oggi crei salute se modifichi i trasporti se modifichi l'organizzazione della quotidianità in termini di tempi tu oggi crei salute se modifichi il riscaldamento delle case crei salute se modifichi il sistema di produzione eccetera eccetera crei salute se le agenzie che devono guardare quello che avviene nell'ambiente non sono qualcosa di separate di esterne al servizio sanitario nazionale ma sono intrecciate se l'accento è sulla salute noi dobbiamo bisogno di un servizio sanitario che abbia tutte le cose che sono state dette la medicina territoriale tutto quello ma che sia aperto agli altri settori della società e ad altre competenze se nominano come ministro un bravissimo medico esperto non abbiamo nessuna garanzia perché stiamo parlando di un sistema complesso ramificato totalmente difficile da gestire quindi io credo che proprio è l'indirizzo della medicina che va cambiato dobbiamo è banale si racconta sempre dei medici cinesi di migliaia di anni fa no parliamo di adesso dobbiamo cominciare a pensare che si va a premiare chi evita che le persone si ammalino che sia il medico ma che prima di tutto sia l'amministratore il sindaco che in base al 78 è ancora responsabile della sanità pubblica e via dicendo lì dobbiamo andare a vedere non solo dopo quando si ammalano e finisco dicendo una cosa banalissima semplicissima e scontata però importante mentre in altri settori noi siamo per la difesa del pubblico sui servizi eccetera eccetera e poi si accetta che c'è il privato sulla sanità il concetto è totalmente diverso lo capisce anche un bambino il privato investe nella sanità per guadagnare come in tutti gli altri settori ma nella sanità guadagna se ci sono malati e malattie e quando non ci sono li crea tutte le vicende colesteroli e via dicendo lo sapete il pubblico investe nella sanità e guadagna cioè risparmia meno malati ci sono e meno malattie ci sono hanno due obiettivi finali non diversi contrastanti opposti uno con l'altro e questo bisogna avere il coraggio di dirlo aggiungo che dopo domani il 15 celebreremo anche qui la giornata per la libertà di Assange bene voglio solo dire questo Wikileaks ha reso pubblici tanti dati ha reso pubblico anche alcuni file di una riunione del TISA il TISA è la riunione per l'accordo commerciale internazionale sui servizi di 42 stati per ora si svolgono incontri riservati che hanno come obiettivo la privatizzazione dei servizi cioè della sanità e dell'istruzione che non devono essere più garantiti dallo Stato ma devono essere parte del mercato universale in uno di questi FAI c'era un'affermazione di un dirigente del fondo finanziario chiarissimo che cosa diceva diceva rivolto agli investitori la sanità è l'ambito che può dare i maggiori profitti al privato a condizione che lo Stato gli enti religiosi e gli enti solidaristici come le fondazioni facciano un passo indietro stiamo andando in quella direzione grazie Vittorio ora c'è Edoardo Turi il discorso di Vittorio appunto la sanità e la salute e ora Edoardo ci parla di quello avvenuto nel servizio sanitario nazionale tra riforme e contro riforme grazie a tutti grazie a Medicina Democratica io sono un operatore adesso qui non sono l'unico qua dentro però sono un operatore che ha visto nasce a Medicina Democratica da studente negli anni 70 ci sono altri operatori i compagni della CGL Medici in cui sono stato per 22 anni sono un direttore di distretto di un ASL un medico di sanità pubblica attivista di Medicina Democratica del forum per il diritto alla salute quindi qui dentro cercherò di rappresentare il punto di vista di chi sta dentro il servizio sanitario nazionale in quanto la voce degli operatori è una delle cose meno ascoltate in tutti questi anni vorrei dire decenni e poi ci andiamo a chiedere perché c'è un'involuzione corporativa a volte anche antidemocratica del mondo del lavoro ci andiamo a chiedere perché il mondo del lavoro si rifugi nel non voto oggi nel voto a destra con un pericolo per la democrazia vorrei dire in tutte un po' le società occidentali perché anche il mondo del lavoro non viene ascoltato a cominciare dalle forze politiche che dovrebbero rappresentarlo il primo nodo che vorrei affrontare è la subalternità culturale che in qualche modo quel mondo di sinistra da cui proveniamo e da cui apparteniamo in particolare alla tradizione del movimento operaio da cui provengono sia medicina democratica psichiatria democratica vorrei dire anche magistratura democratica è appunto uno dei problemi con cui dobbiamo confrontarci è un'egemonia del pensiero liberale che ha raggiunto anche gli angoli più reconditi della società e il pensiero a cui di cui tutti siamo grandi debitori di Maccacaro Giovanni Berlinguer Basaglia li abbiamo visti nel nostro documentario però raggiunge Raura Conti che ogni tanto ci dimentichiamo ma che ha dato un contributo non secondario sui problemi della salute dell'ambiente medico milanese sono dei giganti sulle cui spalle marciamo e devo dire la mia generazione che anche di molti compagni che sono qua dentro forse non è stata all'altezza diciamo così da un punto di vista anagrafico e politico di questi giganti che ci hanno preceduto allora il pensiero dominante unico neoliberale oggi attraverso un percorso che come ci racconta Marco Deramo nel suo libro Dominio è iniziato proprio a metà degli anni 70 una specie di rivincita iniziata nelle università americane finanziata per esempio dalla Rockefeller Foundation e che oggi si esprime da noi è stata citata più volte da Bocconi vuole raggiungere la cattolica Confindustria la fondizione Ambrosetti il forum della Leopolda alcune università pubbliche ahimè Gimbe e la Fiaso come ha detto prima Sartor allora il nostro problema come dice Cavicchi è quello di creare una nuova cultura ripensare la salute e la sanità ma per fare questo bisogna fare un'analisi corretta di quello che è accaduto un po' acribica e vorrei dire qual è il punto di forza che non dobbiamo darci prima Ivan Cavicchi ha citato Marx adesso io non penso che noi dobbiamo pensare a un Marx così congelato da un punto di vista ideologico ma il pensiero la critica e l'economia politica con tutti i filoni che hanno arricchito anche il marxismo e di cui noi siamo in qualche modo debitori anche come medicina democratica non può essere dimenticato e tralasciato allora la prima cosa dobbiamo dire è che il servizio sanitario nazionale è il frutto di uno straordinario periodo di lotte di conflitto sociale lotte operai lotte lavoratori lotte degli studenti che si sviluppa però nei gloriosi nei 30 gloriosi come li chiamano gli economisti cioè uno straordinario periodo di accumulazione di ricchezza nell'occidente industrializzato ma qualcuno l'ha pagata quella accumulazione l'hanno pagata l'ha pagata l'ambiente l'hanno pagata i lavoratori che sono stati sfruttati l'hanno pagata i paesi in via di sviluppo a cui abbiamo sottratto risorse i paesi che uscivano dal colonialismo e l'hanno pagata i paesi del socialismo reale dell'est europeo e anche di altre zone del mondo con diciamo così un arretramento anche dal punto di vista dei diritti sociali e politici a questi sono seguiti i 30 ormai anche più ingloriosi che cominciano negli anni 80 e nel periodo delle privatizzazioni ben descritte da chi mi ha preceduto ma queste privatizzazioni hanno un nome un cognome l'unione europea purtroppo che è diventata cosa diversa da quella che speravamo pensavamo il fondo monetario internazionale e vorrei dire una figura iniziamo a fare nomi e cognomi che è anche simpatica anche ha avuto dei meriti che è Prodi Prodi ha privatizzato gran parte Liri un straordinario patrimonio di ricchezza pubblica è stata privatizzata da Prodi e allora vorrei dire che in questo periodo con la fine anche delle rivoluzioni diciamo così sociali degli anni 70 60 e 70 inizia la rivincita di quei nemici della riforma sanitaria che c'erano anche a sinistra nel documentario che abbiamo visto all'inizio si è visto uno dei testimoni dell'epoca Ferdinando Terranova tra l'altro è iscritto sia a medicina democratica a più di 85 anni lo saluto da qui non so se ci sta ascoltando Ferdinando Terranova nei suoi libri dice che c'erano nemici della riforma sanitaria dentro il partito comunista dentro la CGL che abbia preferito un sistema Bismarck di tipo assicurativo moderno avrebbe avuto un sistema alla tedesca che ormai con i sindacati dentro i consigli di amministrazione delle assicurazioni di malattia e l'altro pezzo diciamo di nemici della riforma è la democrazia cristiana in quanto e qui poi veniamo al passaggio successivo il cattolicesimo sin dall'ottocento sostiene la sussiderietà orizzontale e verticale il livello superiore non faccia quello che può fare il livello inferiore e soprattutto lo Stato non faccia quello che può fare il privato è un pezzo della dottrina sociale della Chiesa la sussidiarietà quindi già nel 8378 come è stato abbetto ben prima anche da altri c'erano quelle che io chiamo le bombe orologeria di cui oggi ancora paghiamo i prezzi che sono in particolare l'articolo 25 e 26 cioè il fatto che i medici medicina generale i medici famiglia rimanevano fuori dal servizio sanitario nazionale convenzionati pensiamo che anche il ministro Bevan del National Service britannico del 48 minatore sindacalista laburista non riuscì a nazionalizzare i general prediction britannici e l'altro erano tutti gli istituti religiosi pensiamo all'esperienza romana il Don Guanella il Don Gnocchi per la riabilitazione ma il cuneo in cui poi si sono infilati tutti quanti gli altri articoli 25 e 26 il 502 è stato il passaggio di De Lorenzo del 92 azienda è stato detto direttore generale obbligo del pareggio di bilancio e regionalismo e però anche qui si inserisce una novità che è stata detta il fatto che la sanità privata è iniziata a vedere quello come un settore di investimento preponderante attraverso quella che è la white economy e qui viene uno dei punti di cui dobbiamo interrogarci dal 96 al 98 noi abbiamo avuto il primo governo in questo paese sconfigge Berlusconi Prodi con un governo di centrosinistra con i comunisti al governo dopo il governo Parli nel 1945 vi era il PDS ancora non vi erano neanche DS c'era di fondazione comunista e il ministro era Bindi adesso io ho simpatia per la Bindi il suo coraggio politico però bisogna anche dire le cose come stanno in quel momento io sono stato anche un testimone personale oculare di quanto avvenne in quanto la CGL in cui allora militavo mi chiamò a fare da consulente del presidente della commissione affari sociali della camera dei deputati che è la commissione in cui passano tutti i provvedimenti della sanità beh lì venne fatto un grande errore la prima cosa da voler fare perché prima del decreto legislativo 229 del 99 c'era legge delega che approvò il governo Prodi che approvò il Parlamento e in quella legge delega non solo non si misero paletti sufficienti ma soprattutto vennero messi dei punti che diedero l'abbrivio poi a chi voleva scrivere il decreto legislativo 229 del 99 come è stato scritto cade il governo Prodi nel dicembre del 98 solo per la cronaca io a quel punto ritorno a lavorare nella mia azienda sanitaria locale ma viene fatto il governo D'Alema con Bindi Ministro e viene scritto il decreto legislativo 229 del 99 e io ho partecipato al gruppo uno dei gruppi di lavoro di quel decreto legislativo che è quello che ha scritto la parte sui distretti e dico che è una parte scritta abbastanza bene rispetto a tutto quanto il resto però devo dire ci sono delle parti che hanno nome e cognome c'è la parte in cui si dice che il privato e il pubblico e in particolare il privato sociale collaborano per fare il servizio sanitario nazionale e questo non è forse la susserialità del pensiero cattolico che esce dalla porta e rientra dalla finestra non è forse questo di cui stiamo parlando la Bindi è una responsabilità politica io soltanto questo dico io non riesco anche come carattere a essere cattivo nei suoi confronti però bisogna pure che la sinistra tutta comunque si declini si prenda le sue responsabilità e l'altro è il pezzo di sanità invece più di derivazione diciamo così comunista socialista che è quella rappresentata dal triangolo rosso Emilia Romagna Toscana e Umbria che in qualche modo per esempio era fortemente orientata sulla regionalizzazione e ha aperto la stura a quella che adesso sul processo prima la riforma del titolo quinto della Costituzione e l'attuale minaccia ormai incombente del regionalismo dell'autonomia regionale differenziata e il ruolo del direttore generale che bene è stato criticato prima da Cavicchi come figura monocratica autoritaria e in qualche modo anche anacronistica ma perché facevano queste le tre regioni rosse adesso sempre meno rosse sempre più sotto attacco lunghe a mano ai leghisti in questo momento perché le regioni rosse hanno voluto difendere quella loro rendita di posizione rispetto alle altre regioni che è esattamente la logica dell'autonomia regionale differenziata altro pezzo pericolosissimo che c'è nel decreto del giustizio 2009 del 99 sono le sperimentazioni gestionali cosiddetti project financing con cui oggi vengono costruiti i più grossi ospedali pubblici tra virgolette a questo punto arriva D'Alema che pone le basi della riforma il titolo quinto della Costituzione che viene fatto dal governo Amato subito dopo qui c'è Veronesi come ministro però chi pone le basi è il governo D'Alema e cosa c'è leggetelo tutto il titolo quinto della Costituzione riforma il titolo quinto noi ci confermiamo sempre sul fatto dell'autonomia delle regioni le materie concorrenti tra state regioni ma lì dentro è stata messa nella Costituzione italiana la sussidiarietà e la sussidiarietà scusate ma chi ce l'ha messa se non il pensiero cattolico e la forza del mondo cattolico che di quella sussidiarietà si fa forte per fare o la compagnia delle opere di comunione e liberazione oppure le piccole cooperative che in qualche modo gestiscono gran parte del privato sociale nella sanità purtroppo in quel governo parlo del secondo governo nel secondo nel governo d'Alema c'erano Bersani nomi che ci sono anche oggi hanno le responsabilità politiche attuali cogenti da Bindi i Verdi con Laura Balbo e una parte di fondazione comunista che a questo punto non sta più nel governo ma sono i comunisti italiani di Cossutta di Liberto eccetera e una figura non secondaria della Dirindin che da consulente della Bindi o meglio direttore della programmazione del Ministero della Salute diventa poi direttore generale di una ASLA assessore deputato del Partito Democratico quindi la sinistra ha una sua responsabilità e se oggi non c'è un'autocritica da parte della sinistra dove andiamo? se le persone insomma coloro i quali si pongono come punto di riferimento politico istituzionale o di altra natura della sinistra non fanno una robusta autocritica è difficile fare quei processi che abbiamo individuato prima che ha individuato prima Cavicchi e anche Sartor le regioni sono state il governo nazionale sono state in maniera sinistra per alcuni decenni e i piani di rientro i commissariamenti della regione sono stati un'intenzione della sinistra e qui veniamo al punto delle privatizzazioni è vero che c'è un grande disegno della finanza internazionale la white economy però guardate questo è stato aiutato da una cosa il blocco delle assunzioni del pubblico impiego che è stato bypassato nelle regioni e nelle aziende sanitarie attraverso un falso in bilancio istituzionalizzato che è trasformare le spese per assunzione personale in spese per acquisizione di beni e servizi e oggi tutte le esternalizzazioni e gli accreditamenti passano attraverso questa scorciatoia per cui la privatizzazione è il 50% su base nazionale e il punto del 90-95% nei settori di riabilitazione lungo degenza hospice assistenza domiciliare allora a questo punto non basta più dire questa in polemica con alcuni insomma anche compagni che stimo a cui voglio fare non basta più dire dobbiamo aumentare il fondo sanitario nazionale che tra l'altro vi dico che nella Nadef nel documento di economia finanziaria di una nota di aggiustamento viene ridotto nei prossimi anni l'ha fatto il ministro Speranza l'ha fatto il governo Draghi ma bisogna dire che noi dobbiamo reinternalizzare i servizi perché metà di quel fondo sanitario nazionale va al privato e nel reinternazionale dei servizi bisogna dire che ci sono dei passaggi intermedici degli obiettivi di una piattaforma di obiettivi che dobbiamo darci la prima è non mettere in competizione i lavoratori del pubblico e i lavoratori del privato perché se noi facciamo come va fatto un piano di assunzioni straordinario nel servizio sanitario nazionale dobbiamo evitare che il blocco delle privatizzazioni si trasformi in lavoratori del privato che vanno con i loro cartelli sotto le regioni pagati e foraggiati dai sindacatini corporativi nella sanità esistono 40 sindacati firmatari dei contratti oltre ai sindacati confederali ai cobas usb a quelli che conosciamo cioè ogni piccolo settore rsa eccetera eccetera si fa il suo sindacatino e quindi bisogna per esempio un passaggio che va fatto è unificare il contratto nazionale di lavoro del pubblico e del privato l'altra questione è quella della democrazia del servizio sanitario nazionale è stato detto a più ma qual è la figura che incarna la scarsa democraticità del servizio sanitario nazionale vorrei dire in controtendenza anche rispetto a baracconi come la scuola e l'università che almeno hanno consigli di amministrazione il collegio dei docenti il consiglio di istituto il consiglio di dipartimento le elezioni il fatto che il direttore generale è nominato dal presidente della regione no? e non ha non ha bilanciamenti nelle le asle per chi ci lavora sa che esiste il consiglio dei sanitari che è un organismo che viene eletto corporativamente cioè per figure professionali non ha nessun potere e il collegio di direzione che è una specie di soviet supremo fatto dai capi di dipartimento che sono nominati dal direttore generale quindi fondamentalmente è un posto di cisa sempre sì e se uno dice no fa l'opposizione in sua maestà con molta cautela perché se dice no poi viene in qualche modo tartassato tra l'altro i consigli di disciplina nelle asle sono costantemente in funzione se uno qual è la cosa più grave se uno va su un giornale e dice quello che pensa va in consiglio di disciplina alcuni abbiamo dei casi a Roma che non solo sono stati sospesi dal servizio per alcuni mesi e dallo stipendio ma li hanno denunciati dal punto di vista civile e penale penale per diffamazione e gli hanno chiesto i danni perché hanno leso l'immagine dell'azienda in cui lavoravano un obiettivo è molto semplice bisogna contrattuare chiaramente vorrei l'autogestione tutte queste cose qua però sappiamo che non è all'ordine il giorno ma si può fare una cosa contrattualizzare il direttore generale cioè inserirlo nel contratto di lavoro con un concorso nazionale come ci hanno senza andare troppo lontani i dirigenti scolastici i presidi ci hanno un concorso nazionale se te collochi bene vai a Roma se te collochi male vai a Caltanissetta ma la politica non ha questo ruolo preponderante nel nominare i presidi nelle scuole e soprattutto rintrodurre il problema della partecipazione della collettività io vorrei citare Azzariti il cosizionalista che legge il manifesto lo conosce lui ci ha dato una volta un insegnamento incredibile sul problema delle regioni dell'autonomia allora tante volte noi veniamo accusati noi di sinistra noi operatori forse noi di medicina democratica di essere statalisti lui ci ha detto Azzariti guardate che la costituzione nell'articolo 112 è molto chiaro non parla di stato parla di repubblica la repubblica è fatta l'articolo 112 dallo Stato cioè i ministeri dalle regioni dai comuni e dalle aree metropolitane che sono le ex province quindi voglio dire non è lo Stato non congloba in sé tutto quanto ciò che è pubblica amministrazione noi invece siamo repubblicani e siamo fedeli alla Repubblica non siamo fedeli allo Stato che è solo un pezzetto della Repubblica è dello Stato centrale quindi dobbiamo trovare un modo di governare la sanità attraverso tutte quante queste realtà istituzionali e introducendo in questo la partecipazione dei lavoratori e delle collettività perché bisogna rinazionalizzare il servizio nazionale e rinternalizzare i servizi una ragione economica c'è non soltanto quella che non è vero che costa di meno il servizio privato ma perché il privato fa i suoi margini di profitto sfruttando i lavoratori attraverso le partite IVA i contratti a tempo terminato il precariato i subappalti alle cooperative quindi fa i suoi margini di profitti noi paghiamo attraverso il pubblico i margini di profitti sempre più alti del privato seconda questione il servizio sanitario nazionale quando esternalizza perde il know-how perde le conoscenze piano piano lo perderà anche negli ospedali se noi esternalizziamo i reparti le camere operatorie gli infermieri che hanno ruoli strategici gli anestesisti e così via questo sta già succedendo nel territorio e chi ha per esempio esternalizzato alle conferenze stato-regioni a guida Emilia-Romagna o Veneto a secondo di che si scambiano i ruoli in cui per esempio l'assistenza domiciliare si è detto che lo possono fare i privati convenzionati e si perde anche lì il know-how inoltre avere un pubblico molti dipendenti pubblici come in Germania e in Francia consente di calmerare le pretese del privato sul piano contrattuale delle retribuzioni cioè le buone retribuzioni pubbliche e l'applicazione dei diritti del lavoro impedisce al privato di fare da padrone con i suoi con i suoi dipendenti e inoltre le ASA spendono un sacco di soldi per controllare il privato e neanche ci riescono a controllare i DRG a controllare le cartelle cliniche a controllare le prestazioni milioni e milioni di fatture da liquidare per fare questo serve ovviamente un grande movimento e non c'è oggi prima nell'introduzione Marco Caldirori ha citato i congressi per la salute ci siamo noi il forum per il diritto salute piccole realtà noi non riusciamo a far crescere questo movimento però questo è l'impegno che dobbiamo dare per far crescere questo movimento abbiamo bisogno di una nuova elaborazione culturale e di obiettivi politici dobbiamo metterci dentro questi movimenti chiedo a tutti gli attivisti militanti sindacalisti che sono qui nelle loro realtà locali nelle loro regioni nelle loro città di fare questo sapendo che in genere quando nascono questi movimenti per la salute hanno la caratteristica cosiddetta NIMBI che conoscono gli ambientalisti noti in Maibachia la difesa dell'ospedale la difesa del consultorio i posti letto eccetera dobbiamo fare un salto di qualità e a questi movimenti far rientrare in un'ottica più generale e complessiva per aggredire proprio quella sinistra che in qualche modo sembra aver tradito i suoi padri fondatori che abbiamo onorato col documentario che abbiamo visto all'inizio grazie allora ora ci sarebbero dei contributi esterni siccome ci sono persone che hanno un treni o devono andare via bisognerebbe un po' modificare l'ordine quindi chiederei allora avevano chiesto di anticipare Enrica Cabelli per il COMPA il coordinamento nazionale parenti associazioni e lavoratori delle RSA e credo che il tema dell'RSA visto tutto quello che ci siamo detti sulle privatizzazioni sia un tema abbastanza importante e quindi una testimonianza importante la dottoressa Rivetti che è in sala chi di voi due ha più urgenza beh allora Enrica vieni te e poi dopo la dottoressa Rivetti che so che deve andare via buonasera allora intanto mi presento sono Gabelli Enrica operatrice con esperienza trentennale in ambito di strutture sanitarie disabili e anziani e operatrice sindacale CUB Sanità Milano e nonché adesso facente parte appunto di questo coordinamento nazionale parenti associazioni lavoratori che si è costituito a marzo del 2022 rispondendo a un'esigenza diffusa di ricerca di risposte da parte appunto di parenti che si trovavano nell'impossibilità di recarsi a fare visita ai propri congiunti nelle strutture allora noi abbiamo pensato che la risposta a queste esigenze come sindacato fosse necessaria e potesse avvenire attraverso l'unione appunto della forza lavorativa e dei parenti perché abbiamo visto che il diritto alla cura delle persone ricoverate in queste strutture è strettamente collegato al rispetto dei diritti dei lavoratori allora noi parliamo appunto come abbiamo detto finora di strutture che sono nella maggior parte dei casi private sono tutte le strutture che offrono questo tipo di assistenza sono sono tutte private il privato ovviamente risponde a dei criteri che non sono quelli del servizio sanitario nazionale quindi deve fare profitto allora noi ci troviamo in una situazione dove non esiste cura per queste persone dove agiscono enti e associazioni che sono cooperative sociali sono aziende enormi che sono anche quotate in borsa e che sono state oggetto anche di diverse di diverse indagini in Francia per esempio e prima Agnoletto ha nominato un po' Corian Cos poi abbiamo le associazioni nostre Uneba insomma sono tutte associazioni che stanno all'interno di un sistema che ruota intorno alla non alla cura ma diciamo il paziente scusate sono un po' per aria perché appunto avevo paura non sono preparata perché avevo paura di fare tardi vabbè comunque questo sistema di assistenza ha come oggetto l'organizzazione del profitto il soggetto non è più la persona ricoverata e quindi noi abbiamo assistito a un deterioramento della qualità dell'assistenza alle persone allora parlando del compal il compal appunto si è costituito ha portato avanti delle lotte ha portato avanti molte iniziative e mobilitazioni alle istituzioni nelle regioni ai prefetti e nelle piazze fino ad arrivare al ministero al ministero a giugno l'otto giugno abbiamo chiesto di di fare delle di andare a mettere il naso all'interno delle strutture per esercitare quel controllo che finora non c'è mai stato i direttori sanitari di queste strutture hanno assoluta discrezionalità rispetto per esempio alla chiusura delle visite nel momento della pandemia avevano assolutamente la possibilità di chiudere alle visite le strutture questo ha portato ad un decandimento psicologico delle persone ricoverate che si sono trovate per circa due anni assolutamente abbandonate dalle famiglie le famiglie non riuscivano neanche a sapere le condizioni in cui erano i propri congiunti all'interno il compal si è preso questo incarico di portare al ministero queste istanze da questo è stata emanata una circolare l'8 giugno avente come oggetto le raccomandazioni per il ripristino dell'accesso a garanzia della continuità delle visite nelle strutture residenziali socioassistenziali socio-sanitarie ed hospice allora questo nasce anche nel momento in cui noi abbiamo avuto addirittura la relazione del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà alla camera dei deputati è stata presentata questa relazione dal Mauro di Palma il quale ha proprio evidenziato la necessità di una riflessione complessiva sul sistema delle RSA che appunto nella maggior parte dei casi sono strutture private e accreditate e i criteri di accreditamento non sono calibrati sulle reali esigenze delle persone ma vengono calcolati sul numero di stanze sui letti per ciascuna camera su ambienti comuni e quindi non vengono calate nelle esigenze reali delle persone ricoverate la qualità del lavoro in queste strutture è assolutamente scarsa emerge infatti in maniera chiara l'inadeguatezza delle cure sia in termini di qualità che di quantità del personale le strutture pubbliche sono pochissime e le strutture accreditate hanno la possibilità di operare attraverso dei parametri che si differenziano tantissimo da regione a regione creando in questo settore un sistema di autonomia differenziata e il quale non garantisce uguaglianza di parametri né di assistenza per i degenti né di diritti sul piano contrattuale per i lavoratori i criteri minimi di accreditamento che sono ormai datati ovunque sono erogati dai gestori per persona e si basano sul sistema del minutaggio che è un sistema che abbiamo già evidenziato più volte essere un sistema disumano perché è nato intanto perché è nato per determinare i tempi di lavoro nelle catene di montaggio e assimila già di per sé gli esseri umani a pezzi di automobile e questo troviamo che sia veramente una cosa terrificante non tengono conto minimamente delle molteplici variabili che si possono presentare durante le operazioni di igiene o di imboccamento di una persona non autosufficiente prevede tempi ristrettissimi sia per l'assistenza primaria che per tutte le altre cure necessarie che siano il medico internista che siano l'infermiere il fisioterapista l'educatore e inoltre definisce criteri minimi essenziali che anche ha detta dei numerosi direttori dei direttori delle strutture non sono sufficienti perché noi quello che rileviamo è che addirittura i minuti che vengono destinati che sono per esempio in Lombardia nelle RSA 901 minuti a persona per settimana addirittura sono i direttori stessi a dire che cercano di dare più minuti perché in quella maniera non è possibile assistere una persona non è possibile nella maniera più assoluta garantire la nutrizione garantire una corretta igiene e da qualche parte si fanno i tagli di solito i tagli vengono fatti poi sull'assistenza infermieristica quindi nelle RSA gli operatori possono facendo un'igiene veloce controllare se non c'è bisogno dell'infermiere possiamo anche evitare di di inserirlo dato che c'è anche una carenza sul territorio nazionale di infermieri e quindi spesso si prendono infermieri in libera professione quindi decidiamo in che orari farli intervenire dunque mi premeva adesso perché sto toccando tutti gli argomenti che bene o male conosciamo e ci siamo detti purtroppo però io volevo evidenziare qua che le frontiere del profitto vanno anche oltre vanno oltre e cioè in questo momento ci troviamo ad avere dei soggetti che forniscono formazione professionale e che inventano corsi di formazione sulla umanizzazione delle cure l'umanizzazione delle cure è oggetto proprio di insegnamento quindi significa che questa viene sempre e comunque caricata sull'operatore sugli infermieri che devono imparare come curare in maniera umana gli assistiti nelle strutture senza considerare che il problema è a monte e cioè sta nell'organizzazione del lavoro che non permette l'umanizzazione delle cure che non ci permette di trattare le persone come esseri umani come persone che hanno bisogno di cure ma non solo andiamo avanti altre frontiere e questo è un business perché gli enti che fanno formazione ovviamente prendono soldi non basta abbiamo anche le aziende che forniscono materiale per la cura delle persone e per l'igiene che forniscono corsi gratuiti e materiale gratuito tecnologico per fare l'igiene delle persone senza l'acqua noi abbiamo delle schiume speciali che ci consentono di risparmiare tempo perché in questo modo l'operatore non deve riempire il cattino di acqua non deve andare a cambiare l'acqua se si raffredda questo vuol dire che se io come operatore in 15 minuti ci metto per fare l'igiene completa a una persona in questa maniera qua lo farò in 10 minuti e quindi la struttura le strutture possono risparmiare sul numero di operatori in servizio chiaro questa cosa si chiama intensificare il lavoro significa comprimere nelle stesse ore di lavoro comprimere il servizio vuol dire che trattiamo ancora e sempre di più devo andare gli utenti come oggetto delle cure come soggetto come oggetto della cura facente parte del sistema di business quindi quindi non gira tutto intorno all'esigenza della persona ma gira tutto intorno a quanto possiamo risparmiare a quanto possiamo mettere in saccoccia mi dispiace che sono andata un po' in panico però l'altro problema che ci stiamo trovando ad affrontare ogni giorno sono le minacce delle strutture che si stanno lamentando dell'aumento delle bollette dell'energia elettrica quindi paventano o la chiusura o l'aumento delle rette e noi ci troviamo con famiglie disperate che non possono permettersi di pagare queste rette che non riescono ad accedere alle strutture ma contemporaneamente non hanno neanche l'assistenza al domicilio e quindi noi ci troveremo a breve questo è un parere personale ci troveremo a breve con famiglie sul lastrico per potersi permettere di tenere il proprio caro nella struttura quando e nel momento in cui non è possibile curarle a casa o viceversa persone al domicilio prive di ogni assistenza che si ammaleranno che finiranno poi in ospedale in pronto soccorso ma siccome sappiamo come siamo combinati anche con il sistema sanitario nazionale in pronto soccorso le persone dopo una certa età non ricevono le cure adeguate perché non c'è un ritorno l'ultima cosa che vi dico e poi fugo noi abbiamo consegnato abbiamo lasciato la lettera aperta del compal che è una lettera che abbiamo preparato e abbiamo inviato alle istituzioni alle regioni vi invito a raccoglierla all'ingresso e a leggerla perché all'interno ci sono anche tutte le richieste che come compal stiamo facendo alle istituzioni immagino che dovremo continuare le lotte nel settore perché in vista appunto del PNRR non ci sarà niente per il settore socio sanitario e assistenziale scusatemi ma io fugo grazie Enrica perché tu ci hai fatto vivere la quotidianità di quello che vuol dire la privatizzazione sulle spalle dei lavoratori e di tutti noi cittadini dottoressa Rivetti segreteria Anao Assum sì è uno di quei sindacatini che è stato citato prima io sono un medico sono un medico di pronto soccorso rappresento il Piemonte per la Anao Assum che è un sindacato di categoria dei medici ospedalieri e questa sera devo parlare di PNRR in realtà il PNRR tocca tangenzialmente gli ospedali perché non può essere utilizzato per risolvere i problemi principali ovvero per l'assunzione di personale perché non è destinato alla spesa corrente per la costruzione di nuovi ospedali perché i progetti si prolungano oltre il termine dell'utilizzo dei soldi del PNRR e neanche per il rinnovo contrattuale che è una di quelle cose che ci interesserebbe ma che ovviamente non può usufruire di quei fondi però coinvolge gli ospedali in modo indiretto perché dovrebbe potenziare il territorio con le case di comunità o gli ospedali di comunità e uno dei motivi più diciamo pesanti che possono interessare gli ospedali per gli investimenti sulle case di comunità è quello che le case di comunità filtrino filtrino gli accessi impropri al pronto soccorso questa è una cosa vera in realtà solo in parte nel senso che i dati ci dicono che i codici bianchi sono il 14-15% ma poi di fatto quello che più di tutto pesa in pronto soccorso sono le riacutizzazioni di malattie croniche soprattutto in pazienti anziani non autosufficienti e sarebbe molto difficile riuscire a gestire sul territorio questi tipi di pazienti quindi probabilmente il filtro ci sarebbe ma a mio avviso non è la prima cosa importante per cui dovremmo davvero insistere per la creazione delle case di comunità ma è quello di cui si parlava prima cioè la prevenzione che si è rivelata lacunosa nel covid che non interessa perché non fa reddito quindi non interessa al privato non interessa al privato accreditato ma che di fatto ci permetterebbe di evitare sia alcune patologie che la riacutizzazione di quelli in essere e per quanto riguarda le case di comunità almeno qua a Torino l'idea è stata quella e su questo abbiamo spinto di iniziare a crearle nei quartieri più disagiati perché uno degli elementi che dovrebbe essere preso in considerazione quando si parla di prevenzione sono i determinanti di salute e questi sono anche quelli sociali cioè ci si ammala e si muore prima se si fa un lavoro disagiato se non si ha la casa se si è disoccupati se si ha studiato poco e devo dire che il titolo di studio di fatto è il determinante di salute più pesante e a Torino forse lo sapete tutti ma per chi è di fuori Torino si è fatto uno studio epidemiologico ormai famoso ma molto interessante che è quello del tram 3 che va dalla collina che è chimicamente il posto di residenza delle persone più benestanti fino alle vallette dove invece ci sono le condizioni di vita più disagiate e il percorso del tram è di 8 km ogni km chi vive perde mezzo anno di vita rispetto a chi vive nel km precedente quindi dai due capolinea dalla collina alle vallette si perdono 4 anni di vita e quindi su questo dovremmo intervenire perché di fatto questo fa parte della prevenzione e in Torino si è creata una collaborazione molto interessante proprio per per l'applicazione del PNRR con un movimento che si chiama Riapriamo il Maria dell'Aide allora una delle cose che abbiamo notato come sindacato cercando di fare rete perché abbiamo almeno io personalmente sono convinta che da soli arriveremo poco lontano che bisognerà fare rete tra medici tra sindacati con infermieri con tutto il comparto ma soprattutto con la popolazione perché altrimenti non riusciremo a risolvere nulla e finalmente siamo riusciti nel piccolo a creare un movimento che chiedeva la riapertura di un ospedale che era un ex ospedale ortopedico affinché venisse riconvertito in casa di comunità e questa era l'altra cosa interessante è stata che finalmente si protestava non contro la chiusura di un ospedale perché poi in genere non si protesta mai per avere appropriadezza perché i medici che ti visitano siano persone preparate qualificate eccetera ma contro le chiusure e in questo caso invece finalmente era a favore della riapertura e della riconversione quindi una delle delle esperienze che io mi auguro che si amplifichi e che si ramifichi anche è stata proprio la collaborazione con i movimenti sociali e che chiedevano la riapertura della Maria Adelaide che è in uno dei quartieri più disagiati quindi era la riapertura proprio nel posto che ha maggiori necessità di salute e questo per ora ovviamente è arrivato all'assessorato ma non è stato completamente inascoltato quindi vedremo il destino del movimento della richiesta e nelle case di comunità l'altro problema che credo valga la pena di sottolineare e poi chi ci andrà a lavorare nel senso che adesso come adesso l'investimento economico sembra un investimento edilizio almeno in Piemonte soprattutto si pensa di ristrutturare e di cambiare la targa delle strutture che c'erano già che facevano altro e che rimarranno dei banali poliambulatori riusciremo a davvero avere i medici di famiglia 820 all'interno che collaborano in Piemonte abbiamo solo il 30-35% dei medici di famiglia che lavora in associazione abbiamo un territorio con delle città dove è più semplice fare le case di comunità e fuori un po' più difficile quindi bisognerà anche ragionare su come verrà distribuita sul territorio questo tipo di associazionismo ma soprattutto se i colleghi sono o no disponibili ad andarci a lavorare e anche qui se con l'obiettivo di creare poi delle collaborazioni tra medici ospedalieri e medici di famiglia perché l'ideale sarebbe avere i medici di famiglia e contestualmente avere gli specialisti che lì fanno gli ambulatori in modo che ci sia un confronto di saperi e clinici diciamo quotidiano e che potrebbe essere proficuo ma per i medici ospedalieri il problema è la carenza quindi diventa difficile riuscire a spostare degli ospedali sul territorio o viceversa e per i medici di famiglia diventa invece la vera e propria scelta di andare o meno a lavorare nelle case di comunità quindi questo è certamente l'altra criticità importante e in tutto questo è evidente che come dice sempre Naomi Klein che come sempre l'ha detto una volta io lo cito sempre perché mi piace citarla e dà ragione tutte le volte che chi è contro il welfare state non si fa mai sfuggire una buona crisi e adesso che siamo in un momento di grave crisi tra il covid e la crisi economica la crisi inflazionistica l'aumento del prezzo del gas la guerra e tutto quello che sappiamo ovviamente ci hanno ben spiegato chi ha parlato prima di me che si sta inserendo un privato che ha degli interessi pesanti e che ovviamente non è interessato sicuramente a fare prevenzione al territorio e alle case di comunità solo se è direttamente coinvolto e non in altri modi io avrei anche finito l'intervento anche perché ci mancherebbe dovremmo dire che il DNR sugli ospedali in realtà fa anche un'altra operazione esattissima che conferma il DN70 conferma il DN70 ora riconfermare il DN70 per chi non lo sa è riconfermare una vecchia idea dell'ospedale dopo una pandemia però quindi l'idea è anche di ripensare l'ospedale mi piacciono molto l'insidio però non va mai dimenticato che nella riproposizione del DN70 dopo due cose di 200.000 morti si ripropongono i vecchi paradigmi di organizzazione di proprietà come se non fosse capitato niente no no grazie effettivamente è vero e poi una delle cose che probabilmente paventa l'intensità di cura che in realtà noi abbiamo sempre pesantemente criticato anche perché si è visto che i dati sono ma proprio i dati clinici di diesito sono contro grazie 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 anche del contributo ancora del dottor Cavicchi allora qui ci sarebbero ancora dei contributi esterni non so però c'era anche un intervento online di Alberto Donzelli come vogliamo procedere ci sono ancora tre interventi esterni dobbiamo fare intervenire il dottor Donzelli allora dai la connessione Antonio non sento non sento quali aspetti aiutami Donzelli ti sentiamo vai devi iniziare sì vai pure spero che mi sentiate datemi un riscontro ti sentiamo vediamo vediamo le slide ok allora io faccio questa dichiarazione sono stato direttore del servizio educazione all'appropriatezza e medicina basata sulle prove di una grande azienda pubblica italiana sono pensionato lavoro da sei anni a titolo gratuito non ho conflitti di interessi da dichiarare presiedo la fondazione allineare sanità e salute che si regge sul lavoro volontario gratuito del consiglio direttivo del comitato scientifico degli autori delle pubblicazioni che a nostro avviso non presenta conflitto ma allineamento con gli interessi del servizio sanitario nazionale e della salute della comunità dei cittadini siete comunque tutti invitati a verificare queste affermazioni in base alle nostre opere penso che sia importante parlare a un pubblico rilasciando anche una dichiarazione in proposito perché si possano prendere le misure a relatore io faccio anche parte della commissione medico-scientifica indipendente e il ok e faccio parte di questa commissione che chiede un confronto scientifico-istituzionale dall'anno scorso sulle tematiche della lotta alle strategie anti-covid vi dirò delle cose che non vi aspettate probabilmente solo pochi di voi probabilmente le conoscono sono dati che sono stati ufficialmente pubblicati ma non ancora commentati dall'Ufficio Nazionale di Statistica del Regno Unito e che sono sconvolgenti iniziamo da questa slide che mostra i tassi standardizzati di mortalità vaccinati verso non vaccinati nell'età 15-19 anni cosa ha fatto di rivoluzionario paradossalmente il Regno Unito ha pubblicato i dati di mortalità totale non più come ci dice il nostro Istituto Superiore di Sanità soltanto i morti i ricoverati da Covid ma quelli di mortalità totale in base allo stato vaccinale in questo caso per gli adolescenti si vede una cosa molto interessante anche se l'effetto è diluito perché per il quinquennio dei 15-19 anni si parte dal gennaio del 2021 e si va fino al maggio del 2022 quindi c'è tutto un qualche cosa che tra poco capirete che diluisce molto l'effetto che vi vorrò mostrare però già qui è interessante perché vedete che il numero di morti da Covid per quanto pochissimi siano in queste fasce di età sono di più nei vaccinati ma i morti non Covid sono molti di più nei vaccinati rispetto ai non vaccinati conseguentemente la mortalità totale nei vaccinati è sempre superiore rispetto ai non vaccinati standardizzando per tassi che vengono calcolati non da noi ma dall'ufficio nazionale di statistica e potete vedere di quanto è superiore quindi c'è una dissociazione tra la mortalità da Covid che è un piccolo di cui della mortalità totale e la mortalità totale che va in un'altra direzione però nel 2022 e qui quindi facciamo un focus su quello che è successo nei primi cinque mesi di quest'anno che sono gli unici di cui abbiano pubblicato i dati cambia tutto vedete in questo caso nella colonna nella barra di histogramma un po' più scura quelli con una dose di vaccino da più di 21 giorni per comodità però le cose sono simili anche quando si guardano le prime settimane dopo l'inoculo nella colonna ocra i soggetti con due dosi nella colonna rosa i soggetti con tre dosi e vedete che nei soggetti di 18-39 anni non solo i monodosati e i bidosati sono con una mortalità sempre superiore in maggio molto superiore a quella dei non vaccinati che vedete evidenziati da una linea tratteggiata azzurra ma anche i soggetti con tre dosi in aprile e maggio vanno a superare la mortalità con un trend ascendente la mortalità dei soggetti non vaccinati questo è quello che accade nei soggetti di 40-49 anni sempre da gennaio a maggio succede più o meno la stessa cosa se non che i tri dosati superano il livello di mortalità dei non vaccinati solo in maggio partendo però da gennaio con un livello che era inferiore alla metà con un trend ascendente questa è la situazione dei soggetti di 50-59 anni anche in questo caso i mono e bidosati hanno una mortalità nettamente superiore a quella dei non vaccinati ricordo che in questo caso sono rischi relativi quindi sono dei confronti fatti per classi di età e per un denominatore standard di popolazione quindi c'è una possibile confrontabilità anche se qualche fattore di confondimento sicuramente ci sarà che può non essere intercettato da questa comparazione abbastanza grezza si vede che c'è una tendenza anche in questo caso all'aumento dei morti tra i tridosati in questo caso si è nei soggetti di 60-69 anni stessa situazione all'incirca nei soggetti di 70-79 anni in questo caso abbiamo inserito perché è particolarmente impressionante anche il caso dei soggetti tridosati da meno di tre settimane guardate in maggio che razza di espansione ha avuto questo tipo di aumento di decessi e aumentano sia pure ancora in maggio al di sotto della linea dei non vaccinati i soggetti con tre dosi da più di tre settimane questi sono i soggetti con 80-89 anni e la situazione è simile e questa è paradossalmente ancora peggiore quella dei soggetti di 90 e più anni che hanno dal mese di febbraio in poi praticamente in tutti i mesi un aumento di mortalità per qualsiasi stato vaccinale cioè naturalmente si potrebbe dire che qui ci sono anche i quadri dosati soggetti più compromessi però diciamo che quello che è impressionante è la tendenza oltre che il dato forse inaspettato vi faccio vedere perché questo è l'aspetto più clamoroso la differenza tra il 2021 e il 2022 negli stessi mesi in questo caso è tutta la popolazione dell'Inghilterra di età pari o superiore a 10 anni e si vede che nel 2021 la mortalità dei non vaccinati era molto più alta di quella dei vaccinati i vaccinati partivano addirittura in gennaio con un 15% quasi cioè 15 volte meno di mortalità poi c'è un'ascesa progressiva si arriva in maggio del 21 alla metà circa della mortalità dei non vaccinati gli epidemiologi non si stupiscono troppo di questo aspetto perché non è solo la virtù del vaccino ma è anche il noto effetto dell'aderente sano chiunque aderisca a una terapia in maniera volontaria ha confrontato con chi non aderisce nei più svariati campi dell'epidemiologia una mortalità che è circa la metà o anche un quarto di quella di chi non aderisce indipendentemente dai benefici conferiti dalla terapia o dai danni conferiti dalla terapia però quello che sciocca è il confronto con i 5 mesi corrispondenti del 2022 in questo caso vedete che c'è un aumento di mortalità fino al doppio in maggio nei soggetti con vaccinazione dai 10 anni ai 100 anni in Inghilterra questa è la stessa slide che mostra la progressione questa è la stessa slide che vi mostra l'appaiamento l'appaiamento delle barre vedete il colore verdolino è quello del 2021 il colore rosso del 2022 e vedete l'incremento assolutamente inaspettato e al momento diciamo non spiegato questi sono gli stessi effetti mostrati invece per i tridosati anche in questo caso nel 2021 c'erano degli evidenti vantaggi sia pure progressivamente via via erosi nel 2022 invece si vedono degli svantaggi dei soggetti con tre dosi rispetto ai non vaccinati in questo caso vi faccio vedere avviandomi alla conclusione le tendenze cioè è stata tratta con i metodi evidentemente automatizzati del web la linea di tendenza che è questa tratteggiata in rosso si parte da una situazione in cui i soggetti con tre dosi mi sono concentrato sulle tre dosi perché sono quelle che sono richieste oggi a chi non sia ancora vaccinato in maniera completa e quelle che vengono richieste agli ospedalieri per non farli sospendere per i sanitari e si chiede addirittura la quarta dose allora in questo caso vedete che anche nei giovani la tendenza va chiaramente verso un aggravamento del rapporto rispetto ai non vaccinati i 40-49 anni mostrano la stessa la stessa tendenza all'aggravamento con in maggio un 31% di morti in più e non non abbiamo ancora la pubblicazione di giugno di luglio e di agosto ecco però e di settembre ma quando le avremo può darsi che la tendenza non cambierà e in tal caso ci saranno sorprese ancora più dolorose o comunque stiamo a vedere ma monitoriamo e intanto prendiamo atto di quello che stiamo vedendo nei 50-59 anni non si è ancora arrivati in maggio nei tridosati abbiamo visto che i bidosati erano molto al di sopra del rischio di morte dei non vaccinati i tridosati non ci sono ancora sono un 19% in meno 0,81 ma la tendenza è all'aumento come pure per i soggetti di 60-69 anni di 70-79 anni di 80-89 anni e come vi avevo in questo caso si arriva già quasi a sfiorare l'immaggio la linea della mortalità dei non vaccinati anche dei soggetti con tre dosi e si supera questa linea nei soggetti con più di 90 anni per cui si invoca la terza e la quarta dose per dargli il massimo di protezione allora bisognerebbe prendere atto che qualcosa rispetto al 2021 di enorme in termini di nuovi fattori di rischio e di danno si è inserito questo andamento non può essere spiegato soltanto dalla riduzione della letalità di Omicron che grazie al cielo già sei mesi fa si vedeva su tutta la popolazione dell'Abruzzo che era 30 volte meno non 30 30 volte meno rispetto alla letalità delle varianti precedenti c'è da domandarsi se ci sia ancora quanta gente che muore a causa di Omicron e non come Fiaso dice anche sostanzialmente anche nelle terapie intensive quasi tutti con l'infezione da Omicron anche aggiungo anche quelli che ci arrivano per insufficienza respiratoria ci si arrivava per insufficienza respiratoria anche prima che ci fosse la Covid in terapia intensiva e dato che lì si infettano tutti se già non se la sono presa si trova anche il tampone positivo ecco quindi ci deve essere qualche altra spiegazione e la spiegazione più ovvia l'elefante nella stanza che bisogna nominare è un possibile peggioramento del sistema immunitario legato a inoculi progressivi e questa è l'ultima slide vi dico che queste slide e molto molto altro ma le trovate tutte poi io comunque ve le lascio agli organizzatori ma le trovate tutte all'interno di più ampie presentazioni nel sito della commissione medico-scientifica indipendente se andate nella barra dei contenuti come gruppo di studi InfoVax Evidence Based trovate i link alle diverse presentazioni questa è l'ultima mia del 9 ottobre che contiene tra l'altro queste slide vi ringrazio grazie allora proseguiamo contributi esterni a questo punto riprendo l'ordine previsto quindi il dottor Andrea Filippi funzione pubblica CGL medici e dirigente di servizio sanitario nazionale mi avvicino e mi sono avvicinato con un po' di ansia perché effettivamente il consenso di oggi e i temi affrontati impongono un profilo di responsabilità piuttosto ampio intanto ringrazio dell'invito sono contento onorato di essere qui perché insomma il confronto con Medicina Democratica che noi abbiamo anche seguito l'anno scorso attraverso iniziative che abbiamo fatto e a cui abbiamo invitato anche Medicina Democratica ci teniamo tanto a continuarlo come area dei medici della funzione pubblica CGL medici e dirigenti sanitari della funzione pubblica CGL perché crediamo fermamente come diceva Edoardo che l'unico modo per risolvere o affrontare anzi no risolvere assolutamente no ma affrontare la drammatica situazione che stiamo vivendo è provare a costruire delle convergenze e delle alleanze la costruzione di una massa critica la costruzione di una mobilitazione è un passaggio assolutamente imprescindibile per poter provare a ragionare oggi io diciamo il profilo che vorrei tenere di umiltà di ascolto perché le cose che sono state dette per me sono state per certi versi illuminanti nella situazione drammatica che viviamo che ovviamente come avete detto non è casuale ma che evidentemente è nata da una volontà politica per certi versi anche da eventi storici ma è sicuramente oggi determinata da una volontà politica economica di creare modelli e sistemi che corrispondono ad una visione di società una visione dell'uomo e una visione della salute io parto e provo a ragionare e prendo spunto da una delle aree anzi dalla principale forse da cui è partito Ivan quella della sostenibilità perché penso che lì sia proprio il nodo di tutto cioè noi dobbiamo provare a capire che cos'è evidentemente come diceva Ivan cos'è sostenibile e cosa intendiamo noi per sostenibilità e per poterlo capire dobbiamo metterci d'accordo come avete fatto voi oggi e io da voi l'ho imparato che idea di salute noi abbiamo mi permetto di dire che idea di uomo e che idea di società dentro cui l'uomo sta allora noi oggi viviamo chiaramente una società frammentata individualista tutta incentrata sull'economicismo tutta incentrata sul profitto mi sembra evidente che oggi il servizio sanitario nazionale è tutto incentrato su un'idea commerciale della malattia è tutto incentrato sulla prestazione è tutto incentrato su un sistema che invece come dicevate prima di creare salute è un sistema e non un servizio che genera bisogni di salute non è tanto sulla questione o non solo Vittorio sulla questione ovviamente del colesterolo o questioni farmaceutiche è proprio sulla struttura della società che è stata creata che è una struttura malsana che è una struttura in cui è venuto meno il diritto alla salute è venuta meno la salute ed è venuto meno il diritto alla salute è proprio perché si è voluto incidere su un'area che poteva diventare un'area commerciale che è diventata un'area commerciale l'idea della salute è un'idea come avete detto oggi molto compressa ma per certi versi anche semplice cioè la salute non si genera nel servizio sanitario nazionale e questo lo dico da medico io se da medico ho scelto a un certo momento non mi sono ancora pentito di fare rappresentante sindacale o comunque di svolgere e provare a esercitare un impegno sociale perché ritengo che chiunque svolga una professione sanitaria abbia il dovere di esercitare un impegno sociale politico e culturale per tutelare la salute e il benessere dei cittadini credo che il medico in particolare che esercita la professione in termini tecnicistici inevitabilmente casca in un riduzionismo della professione che danneggia la professione stessa allora in quest'ambito noi proviamo a costruire delle idee a prendere da voi delle idee a prendere delle idee delle associazioni per cui la salute si costruisce al di fuori si costruisce in termini politici ma soprattutto in termini culturali intervenendo sulle cose che ci siamo detti ambiente lavoro io aggiungo ambiente lavoro ma soprattutto relazioni istruzione la dimensione culturale le relazioni sociali sono il cardine della salute perché una salute una società costruita su relazioni di solidarietà e di reciprocità quella che probabilmente avevamo ereditato mi dispiace dirlo grazie a due guerre cioè nel momento in cui venivamo fuori da due guerre evidentemente ci siamo trovati in una dimensione di reciprocità di mutuo aiuto di mutuo soccorso e di naturale solidarietà che ha costruito una società collettiva una società partecipata è solo su quella società che si può costruire una vision di servizi di welfare prima di tutto e poi di servizi di salute che siano interconnessi fra loro e che dialoghino con il servizio sanitario nazionale è solo in una società in cui il mio star bene deriva dallo star bene dell'altro è chiaro che se invece noi viviamo in una società in cui regna l'individualismo in cui io divento diceva il segretario regionale del Lazio nostro segretario regionale Palmejani diceva io divento capitalista di me stesso al limite poi succede pure che quando fallisco la gestione del mio capitalismo sto pure peggio al limite sono anche responsabili del mio fallimento individuale personale e familiare e allora lì addirittura entriamo di quello che è nel campo che mi compete che è la salute mentale delle persone perché io sono uno psichiatra in cui questa società genera malattia mentale genera disfunzione genera è causa di depressione nelle persone ecco su questo la responsabilità del sindacato ma della politica abbiamo detto della politica di sinistra abbiamo detto non della sinistra di governo io parlo proprio della sinistra di noi di sinistra la responsabilità del sindacato la nostra responsabilità la mia responsabilità è molto è molto profonda ma non voglio come dire fare un po' autocritica in termini di fatti concreti voglio provare a dire che chiunque di noi in una se vuole veramente affrontare un paese che drammaticamente si ritrova oggi a destra anche da un punto di vista elettorale e che drammaticamente vive da anni una dimensione tutta neoliberista economicista individualista beh insomma bisogna che però tutti quanti ci sentiamo un po' responsabili io mi sento responsabile che è successo in queste elezioni io mi ci sento perché dico ma io faccio parte del più grande sindacato d'Italia anzi d'Europa che ritengo qualcuno lo diceva in campagna elettorale dell'incontro di sinistra italiana ritengo un patrimonio culturale di questo paese la CGL è un patrimonio culturale di questo paese che va difeso da tutti noi dalla società anche dalla CGL stessa noi tutti abbiamo il dovere di difenderlo da chi anche distrugge la CGL e dobbiamo assumerci la responsabilità di dirle queste cose dirle chiaramente nella misura in cui oggi il sindacato è la struttura centrale di intermediazione con la società insieme a tutti i movimenti che davvero può cominciare a rileggere la salute su un piano culturale trasversale fra le professioni il passaggio è anche abbastanza semplice e peraltro di riconoscimento della nostra identità lo diceva sempre tu di prima cioè l'833 e i temi sulla salute sono nati nelle fabbriche sono nati grazie ai consigli dei lavoratori e il tema della salute che poi progressivamente purtroppo è diventata di sola sicurezza oggi e anche con la complicità del sindacato per cui si pensa che la drammatica situazione delle morti sul lavoro si affronti aumentando gli ispettori e abbandonando tutta quella che era il nostro principio il principio di una salute costruita sui luoghi di lavoro attraverso l'intervento preventivo e di promozione della salute e di organizzazione del lavoro che deve garantire la salute dei professionisti e invece noi adesso stiamo andando sempre di più sul controllo sul controllo e sulla militarizzazione è un po' come l'assurdo questo ci riguarda come professionisti della salute le aggressioni nei confronti operatori sanitari la soluzione è mettere l'esercito davanti a pronto soccorso noi dobbiamo riprendere il respiro lungo di un ragionamento culturale che permetta al sindacato diventare un luogo principe di discussione dei lavoratori e quindi dei cittadini per una nuova prospettiva di proposta di salute e da qui derivano i modelli e allora poi sui modelli c'è tutto da discutere sì forse anche con qualche complicità di fatto invece il regionalismo differenziato l'autonomia differenziata ma insomma appunto un bene culturale per il paese come la CGL non si può permettere contraddizioni su temi come l'autonomia differenziata non si può permettere contraddizioni su temi come la collaborazione fra pubblico e privato non si potrebbe o non si poteva permettere contraddizioni su temi come l'uelfare aziendale o la sanità integrativa che sono il vero e principale veleno della distruzione del servizio sociosanitario nazionale lo diceva Rossi il presidente della Toscana l'ex presidente della regione Toscana diceva la sanità integrativa è il vero dramma perché la paghiamo tre volte lo diceva quando già non era più presidente la sanità integrativa la paghiamo tre volte la paghiamo con l'inappropriatezza la paghiamo con la decontribuzione e naturalmente la paghiamo con i contratti allora su queste ci vogliono scelte chiare definite e nette perché poi non ci possiamo lamentare se il paese è vita a destra se noi siamo ambigui su questi temi e io dico ripeto noi se su questi temi siamo ambigui e non siamo chiari non ci assumiamo la responsabilità di una volta per tutti dire che il servizio sanitario nazionale deve essere non solo a gestione pubblica deve essere pubblico adesso prima si mi è illuminato la tua rappresentazione fra Repubblica e Stato io ci tengo tanto alla parola statale ma nel senso che per me deve essere pagato dallo Stato questo è il punto perché ce lo insegnava Luciana Castellina la parola pubblico è piuttosto ambigua perché poi pubblico è pure convenzionato che in fondo è pagato dal pubblico però poi invece i servizi devono essere statali e devono essere non solo a gestione pubblica su questi principi noi ci dobbiamo muovere allora poi da lì arrivano i modelli e la chiarezza sui modelli la costruiamo se a partire evidentemente dalla partecipazione dei cittadini e da luoghi di confronto in cui si discute come costruire la salute fuori dai servizi allora si trova il modello organizzativo che davvero va incontro a la ricchezza il valore economico della salute e la salute è un valore economico contro il valore commerciale della malattia un valore commerciale della malattia che non è sostenibile valore economico della salute che invece favorisce la sostenibilità è l'universalità l'unica dimensione in cui il servizio sanitario nazionale è realmente sostenibile poi peraltro la sostenibilità è imbrigliata in quel in quello nodo al collo che è il pareggio di bilancio che il dramma della sostenibilità tradotto nel pareggio di bilancio davvero rende assolutamente impossibile e crea le disuguaglianze fra le regioni e approfondisce le disuguaglianze fra le regioni abbiamo bisogno di costruire modelli intorno a questa idea di salute e io da rappresentante della CGL medici e dirigenti sanitari dico non so se c'è ancora la collega della NAO è che forse dobbiamo partire da noi stessi cioè i medici devono cambiare per superare quella contrapposizione che all'inizio veniva sottolineata fra scienza e medicina imposta cioè fra medicina e democrazia di cui ovviamente voi siete i maggiori rappresentanti di superamento di questa contrapposizione i medici oggi sono lo specchio di un modello individualista frammentato legato al profitto legato all'interesse personale più o meno involontariamente i medici oggi si devono rimboccare le maniche provare a scardinare un sistema che li sta dividendo e che sta dividendo i professionisti che sta dividendo i professionisti e chi più e questo è il grande valore del luogo in cui io esercito l'attività sindacale è chi più di un sindacato confederale purché si abbia il coraggio di individuare quegli elementi trasversali a tutto il mondo del lavoro che generano una salute non possono essere messi al pari tutti i livelli in modo parallelo oggi il sindacato ha bisogno di aprire una grande mobilitazione uno grande stato generale su quei temi come istruzioni ambiente salute che non possono essere messi al pari di altri perché se noi abbiamo un'idea dell'uomo dell'essere umano e della salute e di uguaglianza fra gli uomini come uguaglianza del potere d'acquisto delle persone beh allora noi lì faremo un'attività sindacale che interverrà sulla detassazione sulle buste paga magari pure sui bonus no fino a lì non ci siamo ricati per fortuna ma avremo fallito noi dobbiamo invece costruire una grande mobilitazione che consente alle persone di trovare quel benessere necessario di base per tutti per potersi sviluppare come meglio credono possibilmente cercando una realizzazione che non sia esclusivamente economica grazie a tutti grazie 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 a Dottor Filippi anche per la per il commento diciamo su questi aspetti della sanità integrativa autonomia definiziata contraddizioni insomma penso che ci sono anche nella vostra organizzazione allora Elisabetta Papini sì mi sentite eccola è connessa come sì sì aspetta io devo andare qui vero grazie sì sentiamo ecco ecco perché non sentivo ok grazie buonasera a tutti io intervengo da Roma perché sono un'infermiera coordinatrice del forum per il diritto alla salute e sono coordinatrice stessa di questa associazione nazionale continuo ecco no dicevo appunto che nella vita appunto lavoro faccio la coordinatrice infermeristica e appunto lavoro è uno dei motivi per cui non posso essere presente e mi dispiace molto lì con voi e ci tenevo però ad intervenire grazie dell'invito io anch'io mi sento abbastanza piccola in questa associazione e in questa grande storia che ha medicina democratica e sono onorata anche di essermi iscritta il mio tempo di lotta l'ho iniziato però col forum per il diritto alla salute lo sto continuando e il nostro la nostra associazione proprio da poco ha elaborato un importante documento costitutivo e programmatico dove appunto riprendiamo tutti i temi di medicina democratica quindi la salute e la prevenzione come fatto collettivo e non solo individuale in tutte le politiche come tema intersezionale come dice oggi anche il movimento femminista e transfeminista si deve ripartire noi ripartiamo fortemente e ogni volta abbattiamo su questo punto dalla critica della logica del sistema sanitario e non del servizio sanitario la parola servizio era stata legata alla parola diritto fondamentale dell'articolo 32 della costituzione di cui ci ha parlato con grande passione Ivan Cavicchi servizio sanitario ma oggi vediamo dai loghi di alcune regioni come la Lombardia come la stessa regione Lazio che ha speso 200 mila euro di risorse pubbliche per cambiare i loghi alle autobus alle auto alle carte intestate e cambiare la parola servizio in sistema e appunto è il cambiamento che è stato legittimato è stato spiegato meglio da Edoardo Turi dalla riforma Bindi con la 229 del 99 e l'equiparazione tra pubblico e privato dove diceva la Sartor appunto non è proprio un vero e proprio equilibrio ed equiparazione perché il privato con le risorse pubbliche ci fa quel profitto che non reinveste e non redistribuisce soprattutto verso i lavoratori inutile parlare di prevenzione e di salute territoriale se non si opta secondo noi per la produzione diretta del servizio perché siamo per la produzione pubblica e diretta dei servizi e in maniera molto convinta perché il pubblico non si deve far carico della spesa di quota di profitto del privato generato da ribasso nelle gare dello sfruttamento del lavoro è spesso precario e atipico il problema del covid è stata molto la precarizzazione del lavoro precarizzazione del lavoro che è stata fortemente pagata dalle donne l'ho sentita poco questa cosa io invece vorrei sottolineare anche molto questa cosa perché il 67% degli operatori sanitari è donna i due terzi e ne vorrei anche rappresentare qui questo importante contributo donne che fanno il lavoro di produzione e il lavoro di riproduzione come è stato anche detto dal rapporto di Save the Children queste donne che hanno durante la pandemia hanno fatto anche proprio il lavoro di equilibriste tra fare le infermiere le mediche poi tornare a casa fare le mamme le maestre le badanti se uno certe volte ha un parente a cui deve comunque badare perché siamo per la produzione pubblica diretta dei servizi perché il pubblico se è prevalente è buona occupazione qualificata lo sappiamo e innesta un circolo virtuoso di buona circolazione appunto delle risorse e perché è stato detto meglio da Edoardo Turi il pubblico deve controllare questo questo privato deve controllare questo privato che allo stesso tempo è competitivo che allo stesso tempo comunque deve andarci d'accordo e tutto questo ha dei grandi costi in particolare noi proponiamo questo concretamente l'aumento dei finanziamenti per la sanità deve essere vincolato al solo servizio sanitario nazionale propriamente detto e non alle strutture sanitarie convenzionate accreditate attraverso una dove li andiamo a prendere i soldi li andiamo a prendere attraverso una riduzione significativa delle spese militari e la campagna sbilanciamoci lo sa dire meglio di noi andiamo a vedere bene lì dove si possono andare a prendere i soldi proponiamo il blocco totale di tutte le esternalizzazioni convenzionamenti accreditamenti con i privati e un piano straordinario di reinternalizzazioni allo stesso tempo un piano straordinario di assunzione nel servizio sanitario nazionale con gradatori nazionali e regionali un contratto unico tra sanità pubblica e sanità privata cosa c'entrano i lavoratori che lavorano nel servizio sanitario pubblico e quelli privati che hanno contratti diversi fanno lo stesso lavoro con le stesse responsabilità devono mantenere gli stessi standard di qualità ma allo stesso tempo ci ritroviamo nelle corsie degli ospedali con i requisiti minimi certe volte anche al di sotto di minimi soprattutto nelle RSA e mai adeguati mai requisiti adeguati è importante l'autocritica che fa o la critica che fa Andrea Filippi questo è molto importante chiedo alla CGL che si batta veramente tanto a livello nazionale per questo chiediamo un superamento della figura monografica neoprolistica e autoritaria del direttore generale che noi chiamiamo dittatore generale che governa con i consigli di disciplina sappiamo quanto vengono repressi si parla di manager diffuso ma è l'altra è l'altra faccia del mobbing è l'altra faccia della repressione che viene fatta proprio sui lavoratori della sanità e siamo per invece un controllo diretto e democratico da parte dei comuni bisogna ripensare un controllo democratico da parte dei comuni da parte dei municipi da parte di tutti i lavoratori da parte della collettività della società organizzata il superamento del modello aziendalista lo abbiamo detto tantissime volte qui a medicina democratica e con la riduzione delle dimensioni dei distretti e delle asle che riportino ad un vero e proprio decentramento amministrativo e alla prossimità adesso si parla di medicina di territorio le case della comunità c'erano si parlava invece Maccacaro parlava di case della salute che dovevano anche se purtroppo sono state anche un po' una contraddizione ma dovevano essere un'articolazione del distretto oggi sia nel PNRR che nel DM77 non si prevedono nessun tipo non si prevede nessun tipo di assunzioni di operatori all'interno non c'è una sola parola sul piano di assunzioni chi ci va a lavorare in queste case della comunità queste case ci dobbiamo dobbiamo andare a fare volontariato chiedo perché la parola comunità riporta ad una idea di sussidiarietà che è quella del cattolicesimo e forse non è quella del cristianesimo sociale che forse all'inizio della nostra Repubblica aveva dialogato bene e aveva cominciato a parlare appunto di servizi legati ai diritti ma questa idea di sussidiarietà che ha portato alla compagnia delle opere alla cascina eccetera eccetera lo sappiamo noi che lavoriamo in sanità lo sappiamo benissimo ha l'esternalizzazione di tutti anche dei servizi cosiddetti core business come chiama la scuola bocconiana dagli infermieri agli operatori sociosanitari agli operatori delle mense della Manolo eccetera eccetera quindi queste case della comunità che ci riempiamo la parola con la comunità quando invece abbiamo sentito quanta solitudine c'è e quanta depressione dopo questo covid e soprattutto le istituzioni che non parlano con le comunità dei territori chiediamo una riforma dell'organizzazione ospedaliera secondo un moderno riforme sul territorio nazionale che subire l'assicurazione dal territorio e soprattutto gli aumenti dei posti letto che sono stati tagliati con i tagli lineari proprio negli ultimi decenni pensiamo che sia importante introdurre tutte le cure odontoiatriche ho letto uno studio che anzi molti studi contemporanei che dimostrano appunto che raggiunti i 70 anni di età le persone povere hanno 8 denti in meno rispetto alle persone ricche 8 denti in meno è fondamentale introdurre tutte le cure odontoiatrie l'abolizione dei numeri chiusi nei corsi di laurea di medicina e la formazione del medico di medicina generale di famiglia universitaria attraverso l'istituzione di una specifica specializzazione abbiamo bisogno che i medici di medicina generale veramente diventino specializzati e il passaggio anche alla loro dipendenza al servizio sanitario nazionale insieme ai pedrati di libera scelta il blocco lo abbiamo detto di ogni autonomia differenziata del titolo quinto e il blocco di tutte le assicurazioni sanitarie che vengono pagate dal pubblico con l'abolizione della deducibilità fiscale l'istituzione di un'azienda pubblica di produzione del farmaco come ha detto anche Agnoletto e la sospensione di tutti i brevetti del covid queste sono proposte concrete che si possono fare nei prossimi anni per concludere vorrei dire che i movimenti per il diritto alla salute che purtroppo oggi fanno fatica a decollare ma su questo ci stiamo in mezzo ci lavoriamo con molta tenacia e passione e veramente passione che è quella che ci viene trasmessa e ci è stata trasmessa dai grandi come Basaglia come Maccacaro come Berlinguerre e come Laura Conti questi movimenti per la salute devono essere connessi e legati al movimento e andare insieme al movimento pacifista al movimento per la pace non alle spese militari e sta a noi e ce la prendiamo tutto ce la prendiamo tutto l'onere nel dimostrare che la produzione pubblica dei servizi sanitari ma non solo sanitari pensiamo anche anche alla scuola è molto meglio e è vera produzione e vera ricchezza della salute come diceva Cavicchi grazie bene allora ora ci sarebbe a questo punto l'ultimo contributo esterno e non sento bene ah chiuso l'ultimo contributo esterno di Gina De Angeli infermiera e del comitato sanità pubblica Versilia Massa e quindi diciamo ci si collega ci si collega al discorso dei movimenti per la salute buonasera a tutti se è difficile intervenire per primi vi assicuro che lo è anche intervenire per ultimi appunto la Paola mi ha presentato io sono Gina del comitato sanità pubblica Versilia Massa Carrara e anche a nome del mio comitato volevo ringraziare Medicina Democratica per questo invito il tema che tratterò stasera in maniera tipo una fotografia a grandi linee anche perché tantissimi interventi sono stati molto interessanti e in parte si intreccia anche a quello che voglio dire io riguarda però un argomento specifico che tratta la questione della sanità 4.0 è un argomento che noi abbiamo cominciato a discutere circa due anni fa ancora prima della pandemia e a quel tempo appunto veniva definita allora si chiamava sanità 4.0 oggi invece dopo la pandemia viene definita innovazione digitale post-pandemica volevo tra l'altro spiegarvi l'approccio che abbiamo avuto noi perché ci sono state molte discussioni su come dovevamo affrontare questa questione e per cui noi abbiamo cercato di non partire non da un rifiuto aprioristico delle nuove tecnologie ma nemmeno dal culto della tecnologia che in prospettiva avrebbe di fatto sostituito i medici con calcolatori i robot e gli algoritmi secondo noi l'introduzione delle nuove tecnologie con la sanità 4.0 non poteva e non doveva per noi del comitato essere valutata solo in termini di efficienza che per loro vuol dire un sinonimo di affidabilità velocità e impatto economico ma andava affrontato soprattutto in termini di miglioramento effettivo della salute e della qualità della vita lo scenario che avevamo di fronte ma che abbiamo di fronte tutt'oggi dopo lo smantellamento di un sistema pubblico sanitario è stato sintetizzato lo ricordava Iva è stato sintetizzato nello slogan la sanità non è una merce e l'ospedale non è un'azienda è un dato dal quale non si può prescindere per affrontare in termini critici le prospettive di dove stiamo andando nel frattempo è bene ricordare l'abbiamo ricordato ci abbiamo avuto la pandemia 19 una pandemia che ha avuto un carico terribile di morti e di sofferenze tra i cittadini i pazienti ma io lo voglio ricordare perché sono un'operatrice sanitaria tra gli stessi operatori sanitari medici infermieri osse trasportatori gente del 118 che sono morti da lavoro e per il lavoro e noi non penso in questo paese non lo dovremo mai dimenticare li dovremo sempre ricordare sempre perché sono stati un grande esempio di come sono quella dedizione che i lavoratori tutti hanno avuto in sanità e che loro in qualche maniera hanno trasformato in quella porcata demagogica degli eroi di questo paese e io dicevo appunto che noi dobbiamo valutarlo in questi temini e parlavo dei nostri operatori ora io credo che dovremmo partire per spiegarvi questa questione della sanità sanità 4.0 io faccio una specie di escurso storico e che riguarda il fatto che in diversi paesi europei per rispondere alla crisi economica e la riduzione delle risorse pubbliche per il welfare da anni era già un corso una riprogettazione dei propri sistemi sanitari investendo e mobilitando risorse pubbliche e private addizionali nella sanità digitale la cosiddetta sanità 4.0 che è bene ricordare è un termine traslato dall'industria 4.0 questo perché a loro dire un sistema sanitario che non investiva adeguatamente nella sua digitalizzazione perdeva di fatto la capacità di rispondere con appropriatezza alle caratteristiche emergenti della nuova domanda di salute cioè l'invecchiamento della popolazione la crescita delle patologie cronico degenerative i palesazzi di nuove fragilità e di nuovi bisogni sociali e sociosanitari che ci sono sempre stati tra l'altro secondo i dati dell'osservatorio IC in sanità del Politecnico di Milano la spesa complessiva per la digitalizzazione della sanità italiana dal 2010 aveva subito un progressivo decremento riprendendo a crescere soltanto nel 2014 con un livello pari a 1,33 miliardi di euro limitato all'1,3% della spesa sanitaria pubblica questo era riferimento in particolare ai tre strumenti cardi della sanità elettrica cioè il fascicolo sanitario elettronico la ricetta medica elettronica e la cosiddetta telemedicina ora nel nostro paese l'innovazione digitale in sanità era stata realizzata per la maggior parte in modo sporadico e parziale si può dire quasi a macchia di lopardo senza un disegno strategico complessivo in grado di contemperare l'azione dello Stato centrale con quella delle regioni anche a seguito del titolo quinto un programma di sanità elettronica oltre l'aspetto finanziario doveva quindi partire dalla definizione di un sistema di governance in grado di contemperare il peso dei diversi attori considerati e sotto insieme in cui essa interagiva lo sviluppo della sanità digitale in Italia come si configurava negli ultimi anni rispondeva a un insieme disorganico di attori comitati e tavoli ve ne elenco qualcuno il ministro della salute le regioni l'agenzia per l'italia digitale il ministro dell'economia e finanze il tavolo tecnico per il fascicolo sanitario informatizzato la gabbia di regia del nuovo sistema informativo sanitario il comitato di coordinamento del patto della salute digitale e così via nonostante le aspettative generate le numerose iniziative e i progetti che hanno visto la luce negli ultimi anni in varie regioni italiane non avevano avuto finora la forza di spingere tutto il nostro sistema sanitario nazionale verso questo nuovo modello di sanità in grado cioè di collegare più efficacemente secondo loro persone e informazioni lo sviluppo della telemedicina esempio era stato frenato dalle resistenze delle innovazioni tecnologiche organizzative e normative dalle carenze infrasturali dalle resistenze professionali guardano a parte della classe anche medica e dall'assenza di una valutazione economica relativa ai costi e ai benefici a tutto ciò andava aggiunto la mancanza di schemi di finanziamento ad hoc per la telemedicina all'interno di un tariffario aggiunto di un tariffario scusate nazionale che è dato appunto dell'EA anche a causa dell'idea che l'evoluzione della tecnologia in sanità non era in grado di aumentare il livello della produttività del lavoro e quindi gli investimenti in telemedicina non erano capaci di generare un rapporto costo-efficacia favorevole e sostenibile problema poi superato con l'intesa Stato-Regioni nel febbraio del 2014 con le linee di indirizzo nazionali per la telemedicina che riconosceva di fatto la diffusione sul territorio nazionale del servizio di telemedicina come significativo fattore abilitante per il ripensamento del sistema sanitario nazionale in Italia nei prossimi anni e delineava un quadro strategico del quale collocai tra gli altri gli ambiti prioritari di applicazione un altro cambiamento e più recente è stato costituito dal patto per la sanità digitale fra Stato-Regioni sia nella strategia per la crescita digitale del 2014 e 2020 che ha varato il governo nel marzo del 2015 cosa è successo? la pandemia molti hanno usato questo termine grazie alla pandemia del covid-19 grazie con tutto quello che è successo in questo paese alla pandemia da covid-19 in nove definita da più parti capace di imprimere un'accelerata formidabile dalla medicina a distanza e lo stesso Gianni qualche giorno fa definiva addirittura la sanità digitalizzata come un nuovo risorgimento e la televisita come il futuro della medicina in Italia grazie a questo questo processo e questo progetto in corso da anni di trasformazione del nostro sistema sanitario nazionale ha trovato le risorse necessarie e tutte le convergenze tra vari attori ed è partito su larga scala avviando così la definitiva modifica del concetto di prevenzione cura e salute una trasformazione questa che abbiamo cercato di studiare come comitato vi ho spiegato approfondendo i vari aspetti del lavoro nel seminario che abbiamo tenuto nel giugno del 2021 articolato sulle serate con tutta una serie di relazioni dove il filo conduttore era appunto questo filo questo processi di digitalizzazione in Europa il ruolo delle industrie farmaceutiche le assicurazioni private lo sfruttamento industriale delle informazioni sanitarie come i processi della digitalizzazione modificheranno la domanda di sanità salute ed è soprattutto un aspetto che a me interessa anche particolarmente la ricaduta in questo nuovo modello non solo sui pazienti gli operatori sanitari ma anche sull'ambiente arrivo quasi alle conclusioni l'occasione da noi la offerta Recovery Fund che prevedeva ha infatti tre campi di intervento transizione ecologica inclusione sociale e digitalizzazione e rinnovazione per l'Italia si è tradotto come qualcuno ha già detto nel PNR una riforma che in pratica è a tutti gli effetti riforma il sistema sanitario nazionale a tutti gli effetti ma in chiave tecnologica è questo il cambiamento e che articolandosi su sei missive traccia il nuovo scenario con il quale dovremo fare conti come cittadini pazienti e lavoratori in questo nuovo modello sanitario i sistemi gestionali e di digitalizzazione si articoleranno su tre livelli attraverso il rinnovamento organizzativo che deve avvenire in chiave digitale e tecnologica si inserveranno degli app in intelligenza l'intelligenza artificiale il big data degli strumenti tutto tutta questa cosa ma la cosa interessante è per esempio di che Draghi ha stanziato 4,9 miliardi complessivi nel piano scuola digitale loro andranno a intervenire sui giovani sulle nuove generazioni e si punterà principalmente sul fatto che questi studenti dovranno avere questa cultura e queste nuove competenze e dovranno essere come dire avere questa cultura che loro hanno trovato da ostacolo per esempio nell'ambito sanitario noi non abbiamo questa cultura infatti Brunetta che aveva fatto una proposta di legge sulle pensioni aveva giustamente detto ricordiamo che Brunetta che tutti quegli operatori sanitari che nel pubblico non avessero se non fossero in grado di reggere l'urto delle innovazioni in sanità in qualche maniera dovevano essere mandati a casa perché rientrasse nelle nuove generazioni in grado capito di portare avanti questo modello che loro hanno in testa cosa cambierà difatti pensiamo ai cittadini per esempio questi saranno coinvolti in quello che loro chiamano l'impoverment io l'inglese non lo so molto bene e cioè in questo potenziamento non in questo processo di crescita dell'individuo e del gruppo che è basato sul cremento della stima in sé cioè un coinvolgimento attivo passivo del cittadino che rappresenta parte integrante e fondamentale del processo perché legato al nuovo modello di sanità territoriale loro capovolgono completamente lo stravolgono perché sono intelligenti hanno imparato loro imparano la nostra esperienza da ciò che noi abbiamo prodotto in questi anni stravolgono completamente il concetto di cui abbiamo parlato finora del concetto dell'individuo che è padrone è capace di rappresentare il suo malessere il suo benessere e che è proprietario tra virgolette del proprio concetto di salute e come la volate loro hanno completamente stravolto questo concetto i medici parliamo dei medici avranno accesso a tutte le informazioni del paziente avranno l'ausilio di dispositivi di vario tipo tra l'altro non parliamo dei sensori di tutte queste cose a livello proprio tecnologico in cui il paziente si trasformerà in una piccola macchinetta e tutto il rapporto di cui ci è parlato anche finora andrà completamente perso questi pazienti i pazienti abbiamo i cittadini abbiamo i medici abbiamo i pazienti i pazienti si trasformeranno in umani numerici cioè la salute in ottimazione del rischio tramite tutti questi dati si potrà realizzare la complementare si potrà realizzare il complementamento della medicina predittiva cioè che permetterà di determinare il profilo di rischio di ciascun persona di monitorare l'evoluzione e di realizzare appropriati interventi preventivi solo in termini di risparmio affossando così il vero valore della prevenzione che è promuovere difendere la salute umana da tutte le fese dell'ambiente e del lavoro e della vita questa è la prevenzione di questo paese frutto delle lotte che qualcuno ha già ricordato ogni dato sarà catalogato immagazzinato messo in rete di fatti ci troveremo di fronte a un mutamento di strategie di modello ma pur sempre in linea con il criterio della massificazione dei profitti e della progressiva riduzione delle spese sanitarie l'era della digitalizzazione sanitaria non avrà bisogno ecco perché non serve il personale non serve che lo rassumano perché non avranno bisogno di operatori sanitari ma loro avranno bisogno di una nuova generazione con un senso maggiore di imprenditorialità per questo sul versante dei lavoratori si punterà all'acquisizione di ulteriori competenze e a una ridefinizione del modello assistenziale i successi della sanità elettronica sono vincolati soprattutto al coinvolgimento in prima persona dei protagonisti del sistema sanitario attraverso il consenso o l'adesione passiva questa è una egemonia culturale la formazione è uno dei strumenti principali necessaria per contrastare la resistenza principalmente manifestata contro un'eccessiva attenzione per gli aspetti maneggerali a discapito di quelli clinici e assistenziali e su questo apro una piccolissima parente la questione dell'adesione del consenso è vecchia prima era attiva perché è cominciata con lo smantellamento e con l'aziendalizzazione e cosa hanno fatto loro questo processo l'hanno potuto portare avanti perché noi gliel'abbiamo permesso tra virgolette loro hanno chiesto alla cittadinanza che dimenticasse il concetto di universalità dell'833 lo mettesse da parte e a noi operatori sanitari ci hanno detto di dimenticare perché eravamo medici infermieri radiologi perché dovevamo dimenticare la cura e l'assistenza al paziente e dovevamo accentrare tutto il nostro sapere sugli aspetti burocratici manageriali che ci imponeva l'azienda questo loro sono riusciti a farlo ci abbiamo avuto resistenze sì in parte ma sono state quasi resistenze piccole nicchie ma questa cosa è passata come una tramviata all'interno del sistema sanitario pubblico di cui noi dovremo in parte anche assumerci la responsabilità perché quando si fa un ospedale in project finance e si obbliga il medico a dimettere il paziente indipendentemente se questo paziente può essere dimesso perché sennò viene preso dall'orecchio dal primario e il medico lo dimette vuol dire che il medico ha dimenticato il suo giuramento vuol dire che non guarda più al paziente e alla sua cura ma guarda in qualche maniera minacciato sottomesso represso mettiamola come la vogliamo male ognuno usa il termine che più gli piace ma sottostà ai dittac dell'azienda e questo sarà ancora peggio quella sanità 4.0 io salto tutta la questione della telemedicina perché il tempo è breve della telemedicina voglio dire soltanto una cosa voglio dire che noi non dobbiamo dimenticare che in tutto questo processo come in altri campi anche nella sanità le tecnologie digitali introdurranno nuove parole che mentre condizionano le pratiche abituali riconvertono le mappe concettuali degli utilizzatori e inseriscono una nuova visione generale della salute della professione medica per esempio noi oggi dobbiamo dire che river per cui il babbo la mamma la zia la nonna che assiste un paziente non è più il parente ma è che river i farmaci li salto per il tempo che ci abbiamo breve dico soltanto che gli ospedali che faranno questi ospedali del futuro qualcuno ha già parlato i famosi smart hospital riescono perfino a superare nella concezione che loro hanno gli ospedali dell'intensità di cure che sono i quattro che abbiamo noi in Toscana di cui uno ci lavoro io tra l'altro a Massa Carrara e arrivo all'ultima questione che riguarda la questione dell'ambiente ho parlato del lavoratore dell'ambiente la sanità 4.0 avrà inoltre un forte impatto per l'utilizzazione del 5G sulla salute e sull'ambiente una relazione questa tra salute e ambiente che come comitato noi abbiamo sintetizzato nello slogan in un mondo malato non si può essere sani mostrando non solo la relazione tra ambiente inquinato e salute ma come la declassificazione del concetto stesso di salute da diritto a merce passando attraverso la svalutazione la mistificazione la negazione del ruolo centrale di un sistema sanitario nazionale universalistico ha negato e nega le cure adeguate a una popolazione sottoposta al rischio continuo per l'esposizione a un ambiente gravemente nocivo una buona sanità deve fare innanzitutto prevenzione per evitare l'insorgere della malattia un concetto questo in antitesi col nuovo modello di sanità 4.0 che richiede un salto di qualità attraverso l'introduzione massiccia di tecnologia l'infrastruttura che corrisponde a questa caratteristica è proprio la rete di comunicazione mobile il famoso 5G che utilizza frequente molto alte intorno alle 26 gigabyte fino a oggi non sono mai stati utilizzati c'è anche i 6G e di cui non sono mai stati fatti studi sull'effetto sull'effetto della salute un impatto nocivo e disastroso per la nostra salute e la sopravvivenza del paese noi abbiamo chiuso questo seminario con le parole di Giulio Marcacaro sono state dette anche dentro il filmato e ma le voglio ricordare Marcacaro diceva l'unico modo di autenticare la scienza è che questa corrisponda all'interesse dell'uomo l'uomo individuale e l'uomo collettivo non può quindi la scienza operare mai contro l'uomo nel momento in cui la necessità scientifica diventa necessità disumana la scienza si ferma e non me ne importa assolutamente niente se si blocca proprio secca diceva Marcacaro e non fa un passo avanti perché non ha il diritto di fare un passo contro l'uomo io concludo dicendo che fare rispetto a tutto quello che ho detto io e quello che avete detto voi come usciamo da questa storia io chiedo una cosa io penso che tutti quelli che siete qua quelli che comunque hanno a cuore la lotta per la sanità quelli che hanno a cuore la lotta per la salute quelli che hanno a cuore la lotta per l'ambiente cioè i comitati i collettivi gli ambiti sindacali i lavori i singoli i cittadini devono in qualche maniera trovare la maniera in cui devono superare l'aspetto oltre che della delega quello della denuncia e della controinformazione che sono preziosissime in questi anni per noi sono stati preziosissime ma devono e dobbiamo avviare insieme un'attività in grado di sviluppare un modo unitario superando la frammentazione gli orti gli orticelli chi è più bravo chi è meno bravo chi mette le sue bandierine chi mette le altre bandierine in un'azione che sia più forte e incisiva e che sia in grado per qualità ma anche per quantità noi abbiamo bisogno anche della quantità di dare prospettiva agli obiettivi da conseguire tenendo presente che Berto Breck ha detto una cosa che io la trovo molto valida oggi non siamo nella fase delle vittorie ma siamo nella fase in cui dobbiamo sconfiggere le sconfitte grazie anche a noi del comitato grazie Gina non so se c'era qualcuno che voleva intervenire l'ora è molto sarda non so se c'erano delle domande o degli interventi tutti gli spunti che sono venuti stasera penso ci sarà modo di approfondirli nei gruppi di lavoro di sabato pomeriggio ce ne sono venute tanti di spunti di idee e anche soprattutto bisogna porsi il discorso di che fare appunto come diceva prima la Gina allora ci vediamo alle 21 Enzo va bene ci vediamo alle 21 per chi vuole sì vieni te sì certamente questa è una sala dedicata tendenzialmente a temi che riguardano conflitti pace quindi per carità se qualcuno ha piacere questa sera alle 21 c'è la presentazione di un report di Amnesty International sulla condizione di apartheid in Israele e Palestina ecco solo questo siete benvenuti ovviamente grazie se no domani mattina alle 9.30 comincia la sessione saremo qui dalle 9 circa grazie ancora grazie a tutti per l'intervento buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti